buonasera eccoci qua scusate ma il gatto chiaramente un bel danno stasera allora amici stasera titolo della puntata è tutto un programma insomma vedo che siete già numerosissimi ormai questa è diventata una saga insomma abbiamo abbiamo creato una serie chissà che non lo diventi poi davvero in in qualche bella piattaforma diciamo che ci stiamo pensando allora stasera vogliamo un po fare il punto su una serie di importanti sviluppi che ci sono stati in questi giorni e possiamo anche essere ancora visto che l'importante testimonianza di silvia segato alias occhio creepy di youtube ci ha dato degli elementi in più e anche soprattutto l'avvocato di sebastiano serafini che eh all'esito di questa indagine eh approfondita assolutamente approfondita mh fatta dalla guardia di finanza su delega della procura di trento ha messo nero su bianco tutta una serie di informazioni su cui diciamo c'è poco da discutere sotto profilo giudiziario insomma sappiamo che dall'altra parte la la bugamelli è già partita al contrattacco in maniera assai farneticante ma adesso questa è un po' la sua cifra dicendo che io addirittura avrei manipolato corrotto non so monica esattamente termini che ha utilizzato addirittura silvia segato e che quindi l'avrei costretta in qualche modo a rendere questa video testimonianza così diciamo così negativa nei confronti della bugamelli ovviamente ragazzi si tratta dell'ennesima vomitata di eh deliranti affermazioni altamente diffamatorie che finiranno inevitabilmente nella prossima nel prossimo aggiornamento della denuncia che stiamo preparando relativamente appunto alle accuse sempre più deliranti sempre più assolutamente inverosimili mai che lo fossero state per carità però adesso siamo davanti proprio a situazioni assurde minacce rivolte a ipm che indagano su mt in particolare il dottor corona che chiaramente napoli nord in questo momento è quella è la procura che ha in mano eh tutta una serie di eh informazioni di prove importantissime che indaga per tutta una serie di reati gravissimi come eh ad esempio l'associazione a delinquere finalizzata alla calugna alla frode processuale e chiaramente alla alla truffa e quindi chiaramente loro ce l'hanno a morte perché in realtà sappiate bene che la Francesca Bugamelli che probabilmente adesso dovrà cambiare alias perché bugalalla temo che sia un po' superato ora dovrebbe essere tipo o fufalalla o bugaballa insomma comunque deve deve passare a un piano diverso perché adesso insomma direi che siamo arrivati a una situazione paradossale sappiate che in realtà Giovanni Corona il PM il dottor Corona sta indagando su Zeppellini sta indagando su Pepi Rossi sta indagando su Faraone sta indagando su eh miele il consulente sta indagando sull'agilio sta indagando su una serie di persone ma non su Francesca Bugamelli al momento poi probabilmente a breve anche su di lei posto che tutte le accuse farneticanti e le gravissime diffamazioni che ha rivolto al PM sono già sulla sua scrivania ovviamente quindi non escludo che possa accadere che anche Francesca Bugamelli entri in questo filone con un ruolo di diffamatrice seriale ma in realtà il dottor Corona non ha alcun genere di interesse almeno ripeto fino a quando questa signorina non ha iniziato a fare questa sua campagna persecutoria era estesa anche al dottor Corona fino a quel momento in realtà lei si occupava cioè Corona si occupava di Zeppellini e dei suoi sodali alla luce di una serie di situazioni peraltro avvenute in un'epoca in cui ancora di Francesca Bugamelli tutti felicemente ignoravano l'esistenza per cui eh non si comprende per quale motivo eh il PM dottor Corona dovrebbe perseguitare la Bugamelli tanto meno si comprende eccola che è arrivata anche l'avvocato Gasperini niente meno poi si comprende ancor meno per quale motivo la Bugamelli dovrebbe sentirsi perseguitata dal dottor Corona posto che ripeto fino a qualche giorno fa probabilmente anche Corona beatamente ignorava la sua esistenza ora la conosce la sua esistenza perché ovviamente anche lui è informato doverosamente rispetto alle accuse deliranti che questa signora continua a muovere per cercare ancora di intortare quei pochi follower che gli sono rimasti appiccicati cercando in qualche modo di raccontare storie sempre più inverosimili sempre più totalmente prive di fondamento io stasera vorrei iniziare con una notizia molto croccante poi chiedo no ti prego Roberta croccante non lo usare cambia termine perché croccantina lo usa lei ma anche lì questa qui che è priva di qualsivoglia contenuto originale la roba croccante era roba che dicevamo io e Mattano da anni notizie croccanti quindi manco lì è riuscita a essere confermo confermo lei non riesce in nulla in nulla anche quello che dice non è neanche frutto del suo pensiero perché lei va lì e a paperella recita il copione che oggi ha dovuto leggere un pensiero originale in quella mente difficile che si generi per cui anche croccante non è qualcosa che le appartiene peraltro io adesso mi saluterò non con cuore giallo o amore giallo ma con asfalto giallo ok perché credo che sia il diciamo il tipo di materia che andrà molto di moda da qui in avanti nei confronti di questi soggetti allora vi dicevamo con questa notizia proprio fresca 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 di stampa e la faccio vedere questa è un email che ho ricevuto oggi alla mia posta dello studio da parte della signora alice guerrini ve la ricordate la alice guerrini la youtuber meglio nota come l'ora del te ve lo ricordate alice guerrini sapete bene abbiamo peraltro tutto il materiale perché noi prima acquisiamo denunciamo poi chiacchieriamo ok e a differenza di questi signori le nostre denunce vanno avanti per una banalissima ragione che vi ha già spiegato splendidamente l'avvocato gasperini e insieme a monica e a giovanni la scorsa volta nella diretta di crime doors che potete andare a recuperare nel nostro amatissimo gruppo ormai noi siamo la ruzzone enco unit quindi siamo la baku ok cioè c'era la bau per la fbi noi siamo la baku quindi è proprio un'unità speciale di gente straordinaria che ci ha messo del suo ci ha dedicato del tempo e energia per fermare quello che ormai è un duo a tutti gli effetti perché serena gasperini vi ha mostrato la volta scorsa un altro passaggio del fascicolo di sarafini quindi del manager di silvia segato che si è trovato denunciato poi naturalmente in maniera delirante e farnificante quindi guarda un po' anche stavolta tutto è andato chiaramente dove doveva andare cioè per il tubo del del batter mentre scorre immaginatevi il pm che tira lo sciacquone fondamentalmente ecco questo è un po' il valore di quello che hanno scritto questi signori ebbene in questo fascicolo c'è anche quella famosa ve la ricorderete quella famosa nomina dove la bugamelli di dicembre duemila ventidue dice di essere capo ufficio tricche balacche insomma tutta l'ambaradan del dm team e anche eh protempore rappresentante legale del marchio quindi noi abbiamo modo di dirvi che parte integrante della questione perché l'ha detto lei e l'ha scritto in un documento che è agli atti di una procura quindi non se ne abbia male nelle sue pantomime patetiche legate al fatto di sentirsi vittima di chissà quali persecuzioni perché la peggiore persecutrice di se stessa è proprio lei perché se la finisce di scrivere e dire puttanate probabilmente una chance tra qualche anno passato il carcere di rimettersi in careggiata magari ce l'avrebbe anche anziché continuare a raccontare beatamente stupidaggini fuori dalla grazia di dio l'ha scritto lei che è capo ufficio tricche balacche di tutta questa ambaradan e responsabile legale del marchio quindi tutti cina bella sei m team poi magari ci spieghi anche come ha fatto marassita a vedere i tuoi piedi ma questa è una roba che transeat ok giusto per un passato ok allora mi arriva questa mail ora sappiamo già quale sarà la strategia comunicativa della bugamelli perché tra le altre cose zeppini e bugamelli ormai sono anche terribilmente prevedibili quindi diranno che anch'io ho manipolato anche la povera alice guerrini che mi ha scritto chiaramente perché io a distanza impongo le mani e la gente fa quello che vuole no no roberta non diranno questo no sbagliata non diranno questo diranno che quella mente la sei la sola esatto chiamate la guerrini tranquillamente io non ho nessun problema mi dice spettabile dottoressa bruzzone la presente per porgerle le mie scuse ho detto delle cose su di lei rivelate si infondate che voglio ritrattare ci tengo a chiederle scusa per quanto detto contro di lei e del suo team fatte con poca coscienza e cognizione di causa o se lo sta dicendo da sola quindi ci fa piacere mi sono ingenuamente lasciata convincere da una narrazione in cui credevo e voglio davvero chiederle scusa non è stato un comportamento professionale da parte mia è stato un gesto di impulso per aiutare un'amica che avrei dovuto ponderare eh sì cara lì c'è probabilmente anche perché di amiche come come la bugamelli io ti auguro veramente nella vita di non averne mai più davanti perché se questa è l'amica ragazzi è meglio che ti fidanzi con un con un non so con un mamba con un black mamba con un serpiente a sonagli insomma perché probabilmente corri meno rischio allora non è non sono mai stata la regina dei furbi ma questa volta ho proprio battuto ogni record pure simpatica questa ragazza se voglia mi dispiace davvero tanto non l'ho fatto con cattiveria bensì con immaturità ma non ho più 16 anni ne ho 30 e da persona adulta sono qui a fare ammenda e questo è apprezzabile per amor del certo non voglio usare questa mail per spiare le mie colpe dicendo che nella vita ci fanno errori o che errare umano sì poi vabbè errare umano perseverare un tantinello diabolico diciamo mettiamo questa email è esclusivamente per lei e per dirle che sono una non sono una persona cattiva per amor di dio ma neanche mai l'ho pensato solo un po' diciamo superficiale ecco mettiamola così sono una persona che agito impulsivamente pensando ingenuamente di essere in buona fede voglio farle delle scuse sincere da un punto di vista sia professionale che personale mi sento male per quanto è accaduto e non pretendo neanche che lei spenda il suo tempo per rispondere ci tenevo a fare le mie scuse le auguro una buona giornata cordiali saluti alice guerrini canale youtube l'ora del tè ora fermo restando che come l'ho detto per silvia segato io apprezzo questo tipo di posizioni le apprezzo ancora di più quando sono pubbliche detto fuori dai denti perché come pubbliche erano le accuse farneticanti a me rivolte gravemente diffamatorie credo che permettere in qualche modo almeno in maniera tentata impari la questione per la stessa via dovrebbero essere anche le scuse ma comunque già apprezzo come inizio questa storia chiedo al mio avvocato avvocato gasperini posto che anche la signora guerrini è stata da me denunziata firma digitale ok bene questa roba qui guarda apprezziamo certamente insomma il passo indietro comunque il riconoscimento e le scuse perché è comunque sintomo e di una ragazza che si accorta di aver sbagliato certo che sul piano processuale e come incidenza all'interno del processo purtroppo diciamo questa lettera non possiamo prendere atto ma non incide sull'esito del procedimento che cos'è che incide incide quando ehm si le scuse vengono fatte nella stessa modalità con cui sono state effettuate le accuse banalmente se voi guardate i giornali che forse più è più comune ehm quando danno del che ne so criminale oppure indagato a tizio e e tizio in querela perché semmai quella cosa non è vera il ehm la replica deve essere fatta nella stessa pagina alla stessa altezza con gli stessi caratteri nello nello stessa forma cioè come scritto indagato scrivi abbiamo toppato quindi come è stato detto che Roberta è una bullana criminale e quant'altro ecco con la stessa modalità con la quale è stata offesa con la stessa modalità ne bisogna tra virgolette scusarsi come trattare questo primo passo ok prendo atto di una serie di cose io non ho mai minacciato Alice Guerrini né tantomeno Silvia Segato ripeto prendo atto che siano state manipolate perché conoscendo e ripeto non da Zeppellini attenzione non da Zeppellini sono state manipolate da Francesca Bugamelli ok qui ormai non parliamo più di un soggetto che in qualche modo organizza e l'altro esegue qui parliamo di due soggetti ampiamente coinvolti sulla medesima prospettiva quindi sullo stesso piano in un'attività manipolatoria tesa chiaramente a ottenere vantaggi quindi Alice se ci stai ascoltando e mi auguro di sì ti assicuro che da parte mia c'è la massima disponibilità però non ti nascondo che apprezzerei che così come pubbliche furono accuse a me rivolte molto gravi diffamatorie false con lo stesso tipo di mezzo mi vengano rivolte queste scuse che mi hai diciamo anticipato via mail probabilmente quando riceverò quel tipo di comunicazione valuterò la mia posizione come ho fatto con Silvia Segato perché ho apprezzato il suo gesto e ritengo che la sua testimonianza sia molto preziosa ragione per cui ho fatto un passo indietro io nella mia denuncia ok perché ritengo che la sua posizione sia effettivamente molto più preziosa per me come testimone che non come coimputata ok indubbiamente la tua posizione è molto simile peraltro tu avevi fatto hai tolto il video gravemente diffamatore nei miei confronti però giustificando questa cosa in realtà dicendo che eri stata minacciata perseguitata quando sappiamo bene Alice che non è andata così per cui ripeto va bene tutto io sono disponibile a valutare le posizioni di tutti perché posso anche capire a trent'anni un po' meno perché io a trent'anni già facevo la mia professione già da diversi anni se avessi avuto questo tipo di impostazione avessi scritto cazzate a livello giudiziario oggi non sarei qui quindi trent'anni non è un'età dove certi tipi di atteggiamenti o certi tipi di sbagli si dovrebbero ancora commettere ok perché è un'età in cui il raziocinio c'è la capacità di elaborazione anche di critica no quindi di di analisi un po' più ampia di quello che c'hai davanti dovresti essere in grado di farlo ma vabbè fermo restando questo prendiamo atto che c'è un passo indietro e il che non può che farmi piacere perché mi viene riconosciuto quello che sono né più né meno quindi a me fa piacere che ci sia questo risveglio collettivo sotto questo aspetto mi sono grandemente felice di questo e siccome voi ragazze silvia e alice avete comunque un largo seguito di ragazzi molto giovani e probabilmente inesperti su certe dinamiche e peraltro è un pubblico che in qualche modo è anche vicino potenzialmente a bugamelli non a caso questa signora ha cercato di farvi una cosa che adesso noi vi spieghiamo molto bene perché temo che non abbiate capito la portata di quello che è successo realmente con le indagini con le false accuse mosse mosse a sebastiano serafini che è il manager di silvia segato occhio creepy e che è stato denunciato da jonathan benami che è mirko zeppellini cioè è l'uomo con cui francesca bugamelli passa 24 ore al giorno tutti i giorni dal 21 novembre del 2021 continuando a mentire alla sua community in maniera spudorata e spregevole senza la ben che minima esitazione continuando a farvi credere che non sa chi sia questo zeppellini che zeppellini era rientrato in italia dalla sua famiglia che lei non aveva alcun contatto con questa persona che non era lì con lei tutte menzoni questa sera la puntata si chiama la congiura dei bugiardi perché quello credo che sarà anche il titolo del libro che dedicherò a questi due eh già ho proprio deciso appena avrò un pochino più di tempo libero mi auguro già quest'estate di mettere nero su bianco tutto quello che è successo in questa storia con il prezioso aiuto di monica di giovanni e di serena perché credo che questa storia vada raccontata e debba restare graniticamente nella memoria di tutti noi e ci sarà spazio per tutti quelli che hanno dato un contributo quindi a me fa piacere che queste ragazze abbiano fatto un passo indietro che abbiano compreso ma attenzione perché io stasera voglio che comprendiamo insieme esattamente qual era l'obiettivo di zeppellini e bugamelli ripeto non ci dimentichiamo che la famosa nomina dove lei conferma non si sa bene che cosa perché lei che cosa vuol dire essere rappresentante legale di un marchio che poteri ha rappresentante di legale di un marchio che non esiste la guardia di finanza lo dice chiaro e tondo m team non esiste in nessuna banca dati del mondo perché la guardia di finanza ha accesso a tutte le banche dati del mondo del mondo ok quindi su questo pianeta m team non ha nessun tipo di valenza giuridica non esiste è il parto malato della fantasia di un soggetto pericolosissimo che si chiama mirko zeppellini mettetevelo in testa essere rappresentante legale capo ufficio triche ballacca di un niente potete immaginare voi quanto valga uno due confermerete la nomina attenzione cosa scrive in quel famoso foglio non so se ce l'hai a disposizione sere magari lo rimostri che magari qualcuno di voi molti di voi ci seguono anche dall'altra parte quindi penso che lo sappiate in quella famosa nomina lei scrive che a dicembre 2022 che è residente a roma a roma ok domiciliata in usa e in qualità di capo ufficio del niente perché m team non esiste è una creatura mitologica fatta da un uomo con la testa di cazzo capito roberta posso questo è quindi siccome non esiste niente tu non sei il rappresentante di niente cosa cosa equivale ora serafini serafini sebastiano serafini è un creator di videogiochi mi pare di capire anche insomma di buon successo e anche manager di diversi influencer e creator vari nomi importanti diciamo che nel true crime italiano i maggiori nomi mi pare di capire elisa true crime no elisa true crime non è sua è stato un errore me l'ha detto oggi però ne collaborano ma non è il suo manager sarebbe stata nel videogioco sì però non è il manager e vabbè comunque c'erano una serie di nominativi inseriti nella denuncia esatto a serafini cosa succede il l'obiettivo lui che cosa fa l'avvocato di serafini nel video di silvia segato che vi suggerisco di andarvi a rivedere c'è una bella intervista dell'avvocato attuale di serafini che dice guarda io mi sono occupata del caso quando lui si rivolge a me perché aveva pagato circa 8 mila dollari a zeppellini però poi torniamo sulla questione degli 800 euro pagati da silvia segato sul paypal di francesca bugamelli per aderire a una fantomatica farneticante class action contro di me poi vorrei capire da silvia segato se la signora bugamelli le ha mai rilasciato una fattura per quanto per quanto ha pagato visto che zeppellini si premura di andare a accusare falsamente serafini e tutti i content rietro più importanti del true crime in italia di evadere le tasse proprio questo signore qua capito quello che è finito in galera per una serie di accuse di frode truffa e riciclaggio di denaro che va a dire a quell'altro no ma lui non dichiara non dichiara nel suo paese fa i giochini con i conti correnti lui che gli hanno trovati una ventina di conti correnti aperti in giro per il mondo una ventina dove fa i giochi delle tre carte fa sparire i soldi che che gli arrivano ok quindi cioè quindi cosa arriva a fare allora sera fini tramite la segato entra in contatto con la bugamelli sera fini è in un momento in cui ha bisogno di uno studio legale per gestire la parte contratualistica con tutta una serie di suoi clienti ok quindi questi influencer questi content creator questi youtuber per concretizzare questa attività manageriale nei confronti chiaramente del talent si chiama così no ok quindi si rivolge su sponsorizzazione di bugamelli che gli dice ah sono i migliori vedrai ti faranno tariffe eccezionali ora 8 mila euro per ricevere un cazzo mi pare un po' una tariffa altra si lamentavano dei 6 mila euro che essere dalla gasperini per il furto della mela ma lì almeno la mela l'avevano rubata qua invece non gli è mai arrivato una riga che una riga a fronte di 8 mila dollari pagati da sera fini ok quindi che succede contatta sera fini m team per il tramite della bugamelli la bugamelli insomma tesse le lodi di questo m team e gli passa il buon nuovo alias jonathan benami perché ormai peschiera l'avevamo bruciato noi con le iene a maggio del 2021 chiaramente no quindi che zeppellini e ragion peschiera era chiaro quindi salta fuori jonathan benami ok che abbiamo saputo dalla procura di trento ripeto andatevi a rivedere la 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 diretta di crime dors non esiste cioè jonathan benami è un'altra creatura mitologica come quella di prima non corpo di uomo e testa di cazzo ok quindi non esiste nessun jonathan benami è sempre il nostro spericolatissimo mirko zeppellini peraltro riconosciuto da suo padre perché molto spesso mi sento dire eh ma voi l'avete visto ma noi non l'abbiamo visto quindi non abbiamo la possibilità di avere un riscontro no una ricognizione è stato intervistato dalle iene gli hanno mostrato la foto del della patente falsa di ari ovine che quella che ho pubblicato io oggi sulla pagina ok sulla mia pagina e ha detto ma certo questo mio figlio mirko vi basta o anche bruno zeppellini e imbruzzone in coro se perché se devo avere anche il padre di di mirko zeppellini squadra a me vi va pure bene perché non ho nessuna cosa contro di lui cioè ha avuto sa disgrazia di avere un figlio del genere di questo tipo certo non ce la possiamo prendere con lui ma l'ha riconosciuto peschiera il cognome della madre di zeppellini ok quindi è un signore che gioca a fare genio purtroppo con scarso successo perché alla fine fa dei casini inennarrabili ok quindi che succede mentre è indaffarato con bruzzone in co perché noi siamo il filone principale diciamo che noi siamo i più odiati in termini proprio di classifica no io e poi ovviamente tutti quelli che nel frattempo sono inizio in famiglia Gasperini Demma Langella e bla 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 poi Catania perché adesso Catania ormai è uno di noi a tutti gli effetti bene che succede nel frattempo si apre un altro fronte perché si apre quel fronte attenzione quando zeppellini capisce che Serafini è in contatto con tutta una serie di creatori importanti e udite udite aizzate le orecchiette competitor sulla sulla carta competitor della bugamelli no perché tutta gente che fa su crime peraltro molto meglio di lei quindi insomma fastidiosi dal punto di vista della competizione perché è chiaro che la bugamelli non ce li ha le qualità per poter avere quel tipo di seguito che ha Elisa True Crime che hanno altri tipi di di contentrieto la stessa segato insomma no per cui quale migliore occasione ghiotta per levarsi dalle palle tutti quanti in un colpo solo Serafini è in qualche modo l'uovo di Colombo perché lì in qualche modo è la raggera li raccoglie tutti tanto è vero che nella famosa denuncia che Jonathan Benamì ossia Zeppellini fa a Trento in realtà il vero problema non è Serafini in sé per sé lui se la prende con tutti i creator che sono legati a Serafini direttamente o indirettamente quindi la denuncia lui la fa per sostanzialmente riciclaggio di denaro e autoriciclaggio riciclaggio di denaro e praticamente evasione fiscale a tutti questi qui non solo a Serafini perché l'obiettivo è quello di creare un po' quello che ha cercato di fare con me da due anni a questa parte due anni e mezzo ormai a questa parte ossia un falso finto scandalo mediatico vi ricordate il delirio che che mi ha attribuito quando mi diceva che io rubavo i video alla RAI che avevo rubato decine di migliaia di euro alla RAI perché avevo pubblicato tre mie interviste sul mio canale youtube che ha cercato in tutti i modi di buttare giù e anche qui vedi questo gestino qua vedi Rob Rider lo vedi Rob Rider capito come è andata benissimo è però quella cioè questo è il livello no quindi un petito della Bugamelli che ovviamente la Bugamelli manco la vedono da lontano gli fanno ciao ciao così con la mano ok quindi qual era la migliore occasione di liberarsi del pacchetto completo denunciandoli facendo trappelare la notizia che erano tutti denunciati e che quindi c'era un giro di riciclaggio che colpiva l'influencer del true crime italiano buttarli tutti comunque in cacciara a livello mediatico sporcarne l'immagine perché questo era l'obiettivo e fare in modo che si transitasse queste community in parte transitassero verso la community della Bugamelli è chiaro è come il sole che il disegno era questo quindi era un attacco mirato ai competitor true crime della Bugamelli con l'obiettivo di farli saltare tutti di coinvolgerli in uno scandalo mediatico che lui in qualche modo non ha avuto il tempo di armare perché la procura di Trento ha cominciato a fare domande ha capito che tirava una riaccia che non gli credevano e quindi non non se l'è sentita di creare la cacciara su quegli aspetti lì perché sapeva che non avrebbe trovato alcun riscontro quindi evidentemente quella cosa lì l'ha fermato ma l'obiettivo era quello come con noi sono indagati i content creato i soldi e fanno riciclaggio questo era eh l'obiettivo infatti non sappiamo se effettivamente hanno contattato dei giornalisti potremmo scoprirlo dopo perché probabilmente l'abbiano fatto realmente surreali le accuse che questi giornalisti probabilmente non ci saranno cascati perché è sempre quello cioè lui ti fa la denuncia assolutamente farneticante infondata che finisce appunto nel cesso della procura dopodiché dice a tutti siamo indagati siete indagati e quindi il problema non è essere indagati ciccio il problema è quello che c'hai te quando l'indagine si trasforma in procedimento è in processo ok e sindagati se sei se uno psicotico come te mi denuncia raccontando una marea di cagate peraltro mircolino ti devo dare una pessima notizia io te l'avevo detto che dovevi cambiare avvocato vedi c'ho anche doni di preveggenza sono anche visto c'ho proprio mi arrivano le sensazioni dalle mani le vibrazioni ti avevo detto che dovevi cambiare avvocato funziona ma molto ti va proprio tutto male guarda ti va proprio faraone svampato e peraltro faraone che quello indagato con lui anche a napoli nord e sotto procedimento a roma per truffa in concorso con zeppellini indovinate un po dopo l'ultimo servizio delle iene del 2021 quello di giugno cosa ha fatto si è presentato in procura e ha detto che ritondo alt questo signore io non sapevo fosse mio con zeppellini lo riconosco perché è lui perché la persona con cui ha avuto a che fare perché faraone il primo link tra zeppellini e tutte le truffe poi successive ok compresa la cantone però occhio perché io ero convinto che fosse a riovine non che fosse il truffatore mirco zeppellini e prende immediatamente le distanze peraltro portando una marea di materiale che ripeto ci stiamo adesso lavorando quindi c'è un po di tempo perché c'è talmente tanta roba che obiettivamente ci vuole un organizzarla ma anche lì ragazzi puntate su puntate che saranno meravigliose poi petti rossi petti rossi questa è la la cosa che vi dicevo prima no grazie monica la famosa eh sottoscrizione non so poi che ha poi che cosa sia non si sa perché no no cosa fa lei l'ha sottoscritta bucamale francesca andata a bologna il 77 91 residente in roma viale camero bene 320 peraltro buona sapersi perché un bel sequestro preventivo dell'immobile visti i danni che hai provocato mi sa che ci stiamo ragionando in maniera molto concreta attualmente domiciliata negli usa ma come dicembre 2022 già gridava all'asilo politico in tutte le lingue del mondo infatti avrebbe dovuto confermare che sei rifugiata perché i pm italiani ti perseguitano eh come mai non l'hai scritto qua che è un atto che è andato in procura come mai boh mistero è residente a roma e mi sta bene che sei residente a roma perché il foro di competenza è questo e resta questo per me puoi anche andare a trasferirti in burundi a vendere eh a schiacciare le noci di coco col culo sulla spiaggia fai quello che ti fai ma a me proprio cioè il processo si fa qua che tu ci sia o che non ci sia non ci cambia niente anche per te purtroppo mi sa che è giunto il momento di cambiare cos'è il quinto avvocato il sesto avvocato perché temo che guglielmelli abbia diciamo motivi per ragionare sulla sua vita sulla sua professione sul suo futuro ecco mettiamola così molto seri motivi la qualità di in qualità di capo ufficio immagine e responsabile divulgazione casi e rappresentante pro tempo del marchio statunitense m team cioè tu tu rappresenti il nulla lo possiamo dire ufficialmente perché m team non esiste è il nulla quindi tu sei il legale rappresentante del nulla questa è la tua mansione nella vita il nulla rappresentante del nulla con sede nello stato del michigan meno a me stavolta avete scritto giusto perché l'altra volta era michiagan con la presente ratifica la denuncia querela protocollo bla 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 della procura della repubblica presso il tribunale di alessandria e conferma nomina legale di fiducia dell'avvocato antonio guglielmelli ora fammi che conferma la nomina se la denuncia l'ha fatta jonathan belanino chieda serena in qualità di legale che cosa che roba è questa qua no no è cioè è carta straccia anche perché questo non solo non solo tu non puoi confermare la nomina di un altro peraltro non sei come se una denuncia poi io scrivo siccome mi è simpatica io in qualità di rappresentante legale protempore della triche balac cicci amici no siccome mi è simpatica monica demma sottoscrivo anch'io la sua queriera e alle e alle andare inoltre il capo ufficio cioè la qualità di capo ufficio tra l'immagine non ha alcun potere di rappresentanza non è in capo a lei ma pure guglielmelli che roba è il tuo avvocato che cosa mi mandi a fare una roba del genere nella procura di alessandria perché ciao nella denuncia contro di noi che ovviamente è stata archiviata e questo verrà già spiegato ampiamente per per totale assolute infondatezza della notizia di reato immaginate un po che cosa sta arrivando invece ad alessandria dritta per dritta una bella denuncia per calugna ok e se la becca pure lei perché sta roba qui vuol dire che lei sottoscrive quelle false accuse nei nostri confronti poi sarà un magistrato a valutare la fondatezza ma che le accuse nei nostri confronti siano false l'ha già approvato la procura di alessandria tant'è vero che la loro la loro denuncia l'ha archiviata ok per manifeste in fondatezza addirittura mi ha accusato a me e alla gasperini di aver manipolato la giusta i campioni in un'epoca in cui neanche ancora la conoscevamo cioè ottobre duemilaventidue perché la denuncia che hanno fatto alla giusta i campioni concorso con me gasperini e un altro avvocato è dell'ottobre duemilaventidue io ho iniziato a avere contatti con la campioni a dice a gennaio di quest'anno io non la conoscevo proprio la campioni in quel periodo tant'è vero che la mettini e altre donne che sono state chiamate a testimoniare hanno detto chiaritorno che contatti con me o con gasperini non ne hanno mai avuti tantomeno giusi li ha mai parlato di noi posto che non aveva alcun contatto con noi ce l'ha ora molto molto più avanti molti mesi dopo quindi immaginatevi il livello di bugia cioè proprio di bugiarderia passatemi il termine di propensione compulsiva a mentire che hanno questi due e lei fa pervenire questa roba che non sta né in cielo né in terra perché proprio veramente una cosa che è inconcepibile la bruttisa giuridico dove lei dice io ratifico la nomina che benami ha rilasciato a guglielmelli lei ratifica la nomina a guglielmelli rilasciata da benami attenzione perché perché arriva a questo tipo di passaggio e questo è un elemento ragazzi che va spiegato con attenzione a un certo punto si cerca di fare una composizione bonaria ok e per trattare ci vuole una persona fisica siccome il signor benami sia nella denuncia di alessandria sia nella denuncia di trento a serafini non c'è uno straccio del documento del signor benami non c'è uno straccio di indirizzo c'è la qui c'era la timbra tarloca di di anthony long che non esiste perché nel kent non c'è nessun notaio che si chiama anthony long ce n'è uno nel galles mi pare un tantinello fuori mano ok quindi in inghilterra no quindi nel kent michigan non c'è nessun anthony long e chi lo dice non sono io ma la procura di trento che l'ha cercato perché voleva avere notizie di questo anthony long dice di questo jonathan benami dicendo se tu hai certificato la sua identità evidentemente avrai dei documenti che mi dicono che questa persona esiste e guarda guarda un po tu il caso non c'è nessun anthony long notaio in tutto in michigan né su altro territorio americano quindi ragazzi se proprio la devi fare cioè veramente cioè qua siamo veramente sembra un sembra il gioco delle tre carte fatto veramente da minus abens ok quindi qui questa va a ratificare perché non lo capisce il latino spiegalo che si che cosa hai detto minus abens a di pazienza uno che ha meno qua dentro ce n'è meno di quello che servirebbe ok di materia grigia minus abens ok quindi qual è il problema qui cioè qui deve essere identificato qualcuno allora salta fuori diciamo la subdelega la subdelega a trattare con una nomina totalmente delirante con una qualifica totalmente delirante in relazione a una società che non esiste sottoscritta da un legale il vero problema qui non è francesca bugamelli perché ormai da una così mi aspetto veramente che tiri fuori anche le banconote da due euro non mi stupirebbe assolutamente qui il problema è antonio gugliannelli perché questa roba sua ok e non può non sapere un legale che sta roba è improducibile impresentabile ok quindi il problema nasce sempre lì questo famoso jonathan benami che si chiami jonathan benami che si chiami john peschiera che si chiami john kenning che si chiami pinco pallino che si chiami mirco seppellini non deve comparire da nessuna parte non deve l'unica che lo può vedere in tutta la sua bellezza tutto il suo splendore solo francesca bugamelli che se lo guarda tutti i giorni anche probabilmente desabietta pensate un po lì è un elemento che un pelo di pietà umana me lo muove verso questa ragazza ma solo questo cioè immaginatevi una situazione di questo tipo noi oggi siamo qui a spiegarvi quello che succede a trento perché quello che succede a trento è veramente grave perché ti dimostra lo dice anche silvia segato che ovviamente è stata informata non da noi ma da serafini che è il suo manager con cui noi abbiamo avuto contatti solo da qualche giorno perché quando lui ha capito la situazione perché è stato informato gli è arrivata giustamente la notifica perché essendo indagato nel procedimento di cui lui non aveva alcuna conoscenza è stato quando c'è stata la richiesta di archiviazione come è giusto che sia l'indagato riceve copia che è stata depositata la richiesta di archiviazione perché può fare copia del fascicolo e presentare memoria e decidere in vista dell'udienza di diciamo di davanti al gip perché perché quando gli è arrivata la richiesta di archiviazione zeppellini and company ha fatto opposizione quindi a quel punto è stata fissata un'udienza davanti al gip e per cui serafini ha ricevuto la notifica ricevendo la notifica ha fatto accesso agli altri ovviamente il procedimento archiviato quindi non c'è stato anche lì manifesta in fondatezza della notizia di reato anzi sono emersi elementi a carico di jonathan benami è emerso che non esiste è emerso che è un alias di mirco zeppellini sono emersi tutte le magagne zeppellini precedenti è stato un veramente un un autogol spaventoso quello di zeppellini perché poi si è trovato sotto la guardia di finanza la guardia finanza li ha fatto veramente pelo contro pelo e strapelo tutto ok anche la ceretta dopo il pelo contro pelo quindi hanno saputo tutto e in quel fascicolo c'è tutto quindi non è più una nostra affermazione o è la re che è brutta e cattiva e va a fare le comparsate davanti all'abitazione ok ma è proprio un dato adesso ufficiale che ovviamente verrà sparso ovunque ci arrivi una notizia che hanno denunciato questa roba andrà dritta per dritta perché ormai abbiamo proprio un report pronto pronto all'uso già fatto con tutte le varie informazioni quindi tutte le procure aspetta c'è un altro passaggio e in questo momento tutte le procure che hanno avuto e hanno ricevuto queste denunce stanno facendo un collegamento e quindi ogni procura si invia il fascicolo all'interno del quale hanno fatto le indagini così ad esempio le denunce che sono state esporte da mirco zeppellini quindi le nomine di mirco zeppellini e quelle di john benami e napoli nord procura di roma alessandria trento firenze tutto teramo tutte queste procure alermo tutte queste procure questi pubblici ministeri per colpa di chi nostra sono stati si sono incrociati e queste informazioni se le stanno scambiando sì mirco zeppellini sì glielo abbiamo detto noi e gli abbiamo detto pubblici ministeri tizio caio sempronio chiedete e chiedete alla procura di palermo trento eh gesù bambino e tutti questi pubblici ministeri si sono confrontati sì tutti questi pubblici ministeri sanno tutta la storia dall'inizio alla fine hanno tutta la documentazione che in questi due anni abbiamo acquisito sanno tutto della tua storia criminale zeppellini sanno tutto di quello che hai combinato e adesso sanno tutto anche di quello che combina la tua convivente ok quindi tutto quello che voi dite raccontate tutte le minchiate che siete stati in grado di riferire su tutta una serie di persone per bene semplicemente torto ai vostri occhi di smascherarmi bene tutte queste informazioni sono tutte nella disponibilità di tutte le procure che in questo momento stanno rivolgendo attenzione diciamo investigativa nei vostri confronti hanno tutto tutti quindi tutto quello che state raccontando tutte le questioni che raccontate la storia dell'asilo tutto quanto è tutto sotto che ovviamente non esiste perché questa signora non è in asilo e non è una rifugiata non può esserlo ok non è possibile che lo sia perché primo non c'è nessuno che la perseguita perché semmai è lei che perseguita una serie di persone documentalmente due non ci sono proprio i presupposti giuridici neanche minimali per poter avanzare la richiesta quello che vi ha fatto vedere è il solito collage copia incolla di cazzate che fa questo signore perché probabilmente si è comprato la versione evoluta di photoshop e si diverte così dalla mattina alla sera né più né meno né più né meno lei a dicembre 2022 in un atto che è depositato nella procura di alessandria perché lì che è stato inviato ok con tanto di timbrino e firma digitale stavolta corretta di guglielmelli ed è né più né meno che residente a roma domiciliata in america come rappresentante pro tempore del nulla del nulla questo è questi sono i fatti ragazzi silvia segato ha avuto il coraggio di raccontare tutta una serie di passaggi che l'hanno coinvolta tra questi ce n'è uno che a me personalmente mi ha colpito molto e infatti cercheremo di capire meglio con silvia bene la situazione perché una che mi dice ho versato 800 euro su paypal di francesca bugamelli perché era il costo di una class action contro di me penso che sia qualcosa che non solo debba riguardare me ma anche riguardare i magistrati quindi sicuramente silvia sarà citata come testimone perché dovrà raccontare bene che cos'è sta class action contro di me perché per quello che mi riguarda è proprio la ciliegina sulla torta che dimostra un'attività persecutoria nei miei confronti spaventosa tanto è vero che proprio silvia racconta nel suo video che entrambi bugamelli e zeppellini erano assolutamente ossessionati da me e che lui passava ore al telefono questa pressione che lei a un certo punto comincia a avvertire anche fisicamente come come angosciosa ore ore di telefonate che riguardavano me con tutta una serie di menzogne sul mio conto ed è la stessa cosa che badate bene racconta giusi campioni giusi campioni lo dice me lo dice meri meri coci la mamma di giulia di sabatino mi chiamava al telefono passavano le ore dove mi parlava male di te tutte quante confermono un'ossessione persecutoria nei miei confronti veramente spaventosa non mi nascondo ragazzi che io sono preoccupata e ho anche innalzato le misure di sicurezza che riguardano la mia persona perché io comunque un soggetto ha armato perché comunque sia detiene un'arma vi sembrerebbe che in italia sia rientrato recentemente sotto mentite spoglie col documento falso di jonathan benami se permettete io francamente anche questa cosa la sto mettendo in grande evidenza nelle nella prossima denuncia che quasi ormai quasi finita perché ritengo effettivamente che al di là dei pazzi che questi che questa che la bugamella istiga lui stesso sia obiettivamente un soggetto molto pericoloso dopo quello che poi è emerso del servizio delle iene con l'ultimo servizio della rei capite bene che è una situazione veramente grave però stasera anche insieme insomma a giovanni a monica ea serena vorrei farvi comprendere questo quello che succede a serafini e alla segato non è frutto di un elemento casuale anche lì c'è un disegno preciso io ormai zeppellini cioè altro che profilo cioè so perfettamente quello che fa dalla mattina alla sera sarei in grado guardate di descrivervi la sua giornata la sua giornata tipo in maniera molto precisa perché è talmente maniacale talmente compulsivo che i suoi la sua mente funziona in una maniera ormai a me chiarissima ok quindi l'obiettivo lì in comunella con mimì e cocò la sua la sua convivente era di rovinare o comunque infangare i competitor per fare in modo che lei avesse più spazio per poter affermarsi in un settore dove da sola non ne ha proprio le qualità però per le ragioni che ormai conoscete tutti per cui far fuori elisa true crime far fuori la segato far fuori altri importanti diciamo divulgatori dal puntista del true crime per loro era era una bella un elemento ghiotto è per questo che attacca serafini e tutti i creator legati a lui né più né meno peraltro attacca serafini quando quando serafini dopo che ha pagato 8 mila dollari circa e chiede senti ma questi famosi contratti me li mandi non me li mandi ho pagato ok ha pagato peraltro senza mai ricevere a quanto abbiamo capito senza mai ricevere alcuna fattura a proposito di quelli che vadano le tasse aperte chiusa parentesi no quindi peraltro una società che non esiste un po difficile che possa fatturare che il comincia a chiederglielo ma mi dai conto di quello che ho pagato cioè il servizio che ho pagato mi fai avere queste bozze di contratti mi fai capire cosa cosa dobbiamo fare a certo punto benami seppellini continua a chiedergli dati 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 su dati di tutti quelli con cui lui aveva che fare perché già lui si stava preparando ad attaccare tutta questa gente cioè serafini era il cavallo di troia serafini era un modo per veicolare tutta una serie di informazioni verso di sé e poi usarle per ricattare o rovinare infangare queste persone perché questo è il suo disegno lo ha fatto con tutti compresi i familiari delle vittime mericoce a me personalmente mi ha mandato una miriade di messaggi tutti comprovati sono già in procura dove dice chiaro e tondo che lui ha il fatto dare le credenziali di accesso del profilo di giulia e non gliela mai restituite e qui veniamo un altro punto veramente spaventoso spaventoso nell'ultima live francesca bugamelli mostra i dispositivi del caso cantone dispositivi informatici caso cantone ora ragazzi voi seguite me da tanti anni seguite anche monica e giovanni e quindi un po di un po di diciamo di consapevolezza su altri aspetti anche legati alla criminalistica e alla preservazione dei reperti presumo che ormai qualcosa mastichiate anche voi anche senza necessariamente essere degli esperti no ebbene il concetto di catena di custodia immagino che vi sia chiaro no avete idea di quei dispositivi gestiti in quel modo in mano a una che non ha né arte né parte che li mostra li maneggia e quant'altro senza alcun tipo di garanzia anche laddove qualcuno avesse voluto rimetterci mano avete idea di quanto valgono oggi avete presente lo zero sotto vuoto spinto cioè questa si è mostrata mentre maneggia dei dispositivi dissequestrati quindi comunque fuori da catena di custodia quindi ciao core per intenderci perché non sono più assolutamente analizzabili che peraltro l'analisi che ci ha fatto lui l'avete visto insomma frate pietro l'esperto non è coinvolto dalle iene dice che è una roba talmente banale superficiale questo ha fatto le fotografie di screenshot allo schermo passando praticamente la cronologia dei siti spacciandola per un'analisi informatica perché poi di fatto zeppellino la più pallida idea di cosa sia un'analisi informatica perché ignorante come una talpa morta quindi ovviamente fa delle cose cercando di ingannare le famiglie delle vittime che non sono esperte ma in mano un esperto vero ce lo dice il consulente del dottor corona a napoli nord sono di proprio drammaticamente farlocche ma proprio in maniera imbarazzante ok dove dove mettere le firme digitali non le ha messe anche io non sapevo io non credevo pensavo di farlo in buona fece qui cioè lui giusto può avere spazio con gente che evidentemente è un po' fragile dal punto di vista della capacità critica passatemi questa affermazione quando c'è la proposta noi quella documentazione abbiamo detto ciccio quella roba lì ce la porti tempo cura perché io mi rifiuto ed è stato il problema eh alla prima volta in cui c'era da fare qualcosa di concreto noi abbiamo chiesto conto delle fonti di prova verificate ovviamente è andato tutto in vacca perché naturalmente lui questa roba non ce l'aveva essendo tutte minchiate ovviamente non ce l'ha mai prodotta sta roba un po' non c'era un po' ce l'aveva mandata mandata aperta o quell'altro gli è andato il computer in crash insomma minchiate varie e alla fine ovviamente non è mai arrivato niente è lì che si è creato il problema con noi alla prima alla primo tentativo che lui ha fatto con noi è saltato tutto ok quindi mi fa specie vedere che parecchie altre persone anche del mestiere sulla carta ci sono cascati ok però di fatto questo è quella che mostra i dispositivi non ha capito che in realtà ha fatto un ulteriore danno a se stessa perché sta dimostrando a che ce li ha lui e la giglio li ha mandati a lui tramite faraone quindi siamo sempre una cosa importantissima in questo noi siamo proprio i testimoni per eccellenza perché e conferma che john benami quello che il coinquilino di francesca bugamelli è mirco zeppellini john peschiera perché e la famiglia c'è la mamma della di tiziana cantone mh ha avuto contatto con john peschiera ok che noi vedevamo john peschiera che abbiamo scoperto che era riovene poi su quella patente con quella foto che il padre ha riconosciuto essere suo figlio mirco zeppellini era proprio il periodo in cui io assistevo la giglio e il collega faraone mi chiamò dicendomi guarda io faccio parte dello studio bernardini de pace abbiamo un team un investigatore bravissimo americano questo qui sta addirittura arrivare ai server per far cancellare e scomparire per sempre le foto di tiziana cantone io difendevo la tiziana cantone assistevo la madre in un processo penale e sapevo benissimo quanto la mamma tenesse che queste foto questi video scomparissero per sempre anche perché tiziana sia uccisa per questo perché per non essere mai vista e perché di lei non se ne parlasse più e ne continuiamo ovviamente a parlare in quel momento io dissi guarda al collega faraone fantastico perché finalmente questa mamma darà pace a se stessa e pace a questa figliola quindi gli ho detto però guarda io faccio solo penale di civile non capisco niente non voglio entrare la signora giglio ha una civilista proponi quindi fateli il contratto e proponete di questo contratto quindi quando la giglio manda i dispositivi li sta mandando al john peschiera parlava con noi e che aveva come rappresentante legale in italia l'avvocato faraone quindi io io vi ve lo ridico noi ci siamo rotte le palle di dovervi dire sempre queste cose perché se non vi si legano questi banali concetti allora avete un problema serio ma serissimo è inutile che la la bugamelli continua a dire prendere la busta protettissima immagina quanto era protetta come dice lei ho avuto i brividi ripeto questa però te ve la dice lunga sul livello della bugamelli posso dire una cosa dice di quello che fa una roba del genere per uno che ha anche solo un neurone che gli funziona e ha un minimo di nozione di quello che significa la parte della catena di custodia evidentemente pensa che sia la catena del motorino probabilmente quindi una roba così di una gravità assurda perché ha completamente devastato ogni possibilità di rimettere in mano non che ce ne fosse ancora e parliamoci chiaro per carità però è proprio un passo tipico di uno che non ha proprio la più palli di idea di quello che fa cioè proprio veramente una roba imbarazzante tanto è grave quindi nel tentativo di questa cosa in realtà lei ha confermato a che i dispositivi ce li ha lì e che lei è con zeppellini perché quei dispositivi li ha zeppellini e ce lo dice faraone questo ok quindi li ha mandati a lui e che i due sono insieme quindi in realtà la presenza di quei dispositivi da averli mostrati certifica che lei è lì con zeppellini perché ancora adesso ragazzi vi prende per il culo e vi fa dire che lei è lì da sola lei è lì da sola tanto è sola è solissima perché non c'è nessuno quando marazzita gli ha detto il suo compagno lei ha detto no ma qua non c'è nessuno no no non c'è nessuno c'è il fantasma formagino che ti porta da bere quant'altro cioè è ancora adesso lì pronta a cercare di far credere che lei è lì da sola ragazzi ripeto i giovani va bene ma non siete imbecibili cioè avete qua dentro della materia grigia cominciamo a farla ruotare perché questa qui gli sta prendendo in giro in maniera spaventosa è veramente una roba intollerabile anche per chi non c'entra niente con voi c'è un'altra cosa gravissima è chiaro che tra l'agiglio e e gion peschiera a bugamelli i rapporti si siano interrotti malamente bruscamente e qualsiasi consulente avvocato chiamatelo come volete che ha avuto incarico e che ha ancora oggetti fascicoli reperti carte quando si interrompe il rapporto devono essere restituiti immediatamente non si possono trattenere questo è un reato si chiama appropriazione indebita quindi la signorina bugamelli che pensa che tanto che mi nomina ogni due per tre e pensa di essere un'esperta di diritto penale di diritto processuale guarda non ha non ci hai capito un'emerita mazza stai zitta che fai più bella figura perché te ieri quando hai fatto vedere le bustine a parte che avete dimostrato di non aver capito appunto nulla di come hai dato la prova di aver commesso il reato se te e quell'altro coinquilino ora vi beccato una denuncia e io prego e mi auguro caldamente ma credo che l'abbia già pronta il collega che sta penalista che sta assistendo la signora giglio di denunciarli e hanno non devono fare nessuna indagine niente nessuno ci hanno la prova perché la signorina fa vedere che li ha lei infatti posso dire una cosa abbiamo acquisito tutto quindi chiunque avesse bisogno di questo materiale noi siamo a disposizione non c'è problema lo stiamo facendo per tutti ragazzi quindi abbiamo creato proprio una sorta di archivio ordinato per temi e per date abbiamo tutto quindi qualunque situazione vi serva noi siamo disponibili lì via c'è anche dice sono una delle persone che per un periodo ha seguito la bugamelli e so con quanta volontà ha manipolato che la segue quindi ragazzi qualcuno mi fa piacere lì via che ce lo scrivi perché una parte anche del nostro lavoro è evitare che questa continua a prendere in giro della gente che magari fa anche fatica a mettere insieme il pranzo con la cena questa dice da avere 700 mila euro presi con con un incidente ora noi abbiamo visto le fotografie nostro giocoforza visto che ci ha accusato di averle noi divulgate le foto della bugamelli che sono ovunque liberamente scaricabili da qualunque sito porno e la mostrano diciamo successivamente al periodo dell'incidente non parrebbe aver avuto danni permanenti diciamo che dal punto di vista medico legale non mi pare che ci siano danni e diciamo che c'è un po' una visione successiva della sua della sua fisicità quindi non parrebbero esserci danni permanenti quindi non abbiamo messo in dubbio l'incidente per carità non lo so personalmente io non credo una parola di quello che dice questa signora quindi non lo so non ne ho prova quindi vabbè metto lo do come possibilità ma certamente non credo che abbia avuto il risarcimento che dice di aver raggiunto perché siamo proprio fuori da ogni parametro neanche nei casi di invalidità permanente c'è gente che non cammina più che rimane tetraplegica che può paraplegica ci sono quei risarcimento il dubbito che lei possa averlo ricevuto posto che sarà anche fatta male ma evidentemente nulla di così così permanente ok quindi anche lì ripeto avrà fatto questo incidente diamo il beneficio del dubbio ma io personalmente conosco una persona che ci siano quel tipo di importi perché sarebbero proprio fuori standard sotto anni sotto ogni punto di vista io conosco una persona che ha avuto un incidente molto molto grave è riuscita a raggiungere quelle somme ma adesso ha delle protesi e la somma è stata raggiunta tra assicurazione risarcimento danni anche di chi aveva causato tipo l'incidente e si è arrivata a quelle somme ma è un danno permanente ha dei pezzi del corpo che non sono naturali non sono ma su questo guarda quindi ha avuto io volevo due anni per la riabilitazione e siamo arrivati lì quindi è strano che si sia avuto la stessa lo stesso risarcimento io volevo dire una cosa importante sul discorso di prima su tiziana cantone hai voglia che si vedono i segni ma lo so ivo esatto assolutamente ma siamo d'accordo con te per quello che ti dico che nella ricostruzione nella narrazione di questa vicenda ci sono tanti passaggi che non mi tornano ma non voglio manco mettere mano a questa storia qua perché guarda tanto ce n'abbiamo di altra roba che di balle che ha raccontato questa che anche laddove non ci fosse questa gravità di incidente probabilmente questo ha raccontato di essere una bulla anzi scusa di essere stata vittima di bullismo l'absus ogni tanto ha raccontato di essere una marea delle situazioni quindi mi pare molto difficile che una con un profilo come il suo possa essere stata vittima di bullismo anche lì abbiamo riscontri di queste sue presunte vittimizzazioni perché io francamente credo che sia un copione e anche piuttosto banalotto che lei recita per attirarsi la simpatia di chi magari quel tipo di esperienza terribile l'ha fatta davvero perché funziona così lei aderisce in base a chi ha davanti in base alle problematiche che ha davanti gioca a fare il rispecchiamento che è una roba che abbastanza banalotta da fare cercando di far di che anche lei ha avuto quel tipo di esperienza ora ho avuto tutte le esperienze di questo mondo in 30 anni ora conto una marea di balle io sarei più propensa per la seconda ipotesi sotto questo profilo si io volevo dire una cosa importante anche lei a quell'altra che dice vittima di bullismo scegli delle due l'una o sei un manipolatore o sei una vittima tutte e due le cose un po' difficile esserlo contemporaneamente ma lì tanto ripeto arriva lì amore giallo amore giallo baci baciotti ragazzoni ragazzoni tre quattro trincate a destra manca qualche rutto e abbiamo risolto perché questo lei è fondamentalmente è più ragazzi iniziate accettare l'idea che dovete abbandonare dovete abbandonare il fatto della manipolazione cioè ragazzi accettate che purtroppo è complice ti faccio parlare subito dello giuro è complice basta non è manipolata per un ben nulla è complice commette reati quindi io personalmente giovanni rangella la chiamo criminale perché i reati li compie e la calunnia è il minimo di quello che ha fatto perché sicuramente ha fatto altro stanno lì davanti le cose che ha compiuto smettetela di far prendere per il culo da questa ragazza perché sta solo approfittando di voi prendete coraggio una presa di coscienza lo so che dura perché vi ha fatto compagnia vi avrà tirato su da momenti difficili di solitudine vi avrà ricaricato sarà stata anche piacevole inizialmente ma girate vedete abbia parlato di tanti youtuber carini almeno sono ragazzi onessi che fanno delle cose altrettanto interessanti le visa true crime doppio creepy babilonia e quello che volete seguite loro se proprio volete sentirvi il tuo crime così da youtube ok ma evitate sa ragazzi vai monica scusa vai monica no figurati io volevo dire una cosa importante che vi fa vi darà forse un attimo il quadro visto che ho visto molti commenti di persone che vengono dalla community bugalala e sono rimasti sconvolti dal fatto che lei abbia esibito e questo e questo lo leggo anche al fatto che molto spesso veniamo criticati sicuramente anche sotto questa live ci saranno quelli e però voi dite delle cose professionisti ora io non voglio giustificarmi però vi voglio dire una cosa voi state arrivando adesso e vi sembra tutto talmente così assurdo e non avete la minima idea di quello che noi abbiamo visto in un anno e mezzo su tiziana cantone a voi sembra mi fa schifo che abbiamo stati dispositivi pensate a noi quanto fa schifo sapere che ad agosto luglio quando è stato ha rimesso lui i video in giro di tiziana cantone per chiamare poi il giornalista distratto che gli fa l'articolo e m team ha fatto rimuovere i video e sapete cosa è successo dopo la canto la mamma della tiziana cantone ha fatto uscire un comunicato stampa in cui diceva che loro hanno nulla a che fare con m team ma secondo voi chi è che si prende la briga dopo un anno e mezzo di prendere il video di tiziana cantone ripostarlo sui social dall'america chi se non lui è anche di peggio perché la stessa giglio a un certo punto scrive e noi abbiamo tenuto il post e di fare attenzione perché c'era una pazza psicopatica lei parla di questo scrive così nel suo post che aveva rubato il suo profilo profilo di della della giglio quindi precedente profilo della giglio quindi la giglia è stata costretta a farne un altro quindi potete immaginare chi poteva avere le passevo di quello precedente quando ancora collaborava con m team dicendo attenzione perché c'è una pazza psicopatica che dal mio profilo precedente sta mandando richieste a diverse persone parlando bene di m team la pagina di m team ok siamo a questi livelli fa schifo che mostra il telefonino pensate noi quando voi tutti è sono tutti brutti e cattivi che eravamo quattro fake della bruzzone e vediamo un giorno l'articolo su non mi ricordo quale giornale e riapparsi video di tiziana cantone m team finalmente riesce a dimuoverli in meno di poche ore ma ma quando cioè ma voi veramente adesso che avete un quadro chi pensate che l'abbia messi quei video e voi qualcuno viene e dice no per lei era lì stiamo parlando di questa estate non di due anni fa e poi qualcuno dice che dovremmo avere rispetto che i professionisti non dovrebbero comportarsi così e tutto quanto voi non avete neanche idea di quello che abbiamo visto in un anno e mezzo ma avete la conferma guarda cosa scrive marta davinelli proprio a proposito di quello che dici tu sembrerebbe che abbia fatto credere la marazzita dell'attentato suicidio sì abbiamo avuto anche noi questa tua stessa impressione marta no ma io lo so perché subito appena lui cerca di in qualche modo accenna l'argomento che in realtà si comprende che fa riferimento a questo e lei lo blocca immediatamente perché ovviamente una minchiata è una minchiata che non ha raccontato a lui in mezzo a moltissime altre perché posso immaginare insomma che lo interrompe anche quando parla di di lui di un lui di mt spesso anche quando parla del compagno della bugamelo evidentemente le cose che non deve dire e probabilmente non forse non riescono a controllarlo e quindi lei subito quando c'è un argomento che non vuole che marazzita tratti lo porta subito immediatamente anche in maniera abbastanza brusca su altri temi ma anche a livello giuridico quando lui dà delle risposte giuste però ristrette perché le sue sono pretestuose e faziose e lui sta dando la risposta tra virgolette giusta ma lei non gli racconta il reale contesto perché lei sai che cosa ha fatto l'altra volta lei non ha parlato di archiviazione no quando abbiamo mostrato i documenti e lei ovviamente se fa la domanda uno che non conosce tutto il contesto si chiede avvocato ma è legale mostrare degli atti d'indagine così senza spiegare che c'è un'archiviazione e lui giustamente ti risponde sì lo manipola però se lui magari sta estendendo l'argomento ma quel mano glielo fa dire perché ha paura che faccia danno Giovanni guarda è una cosa che volevo dire perché questa cosa era uscita anche l'altra volta allora è un posto che lei fa delle domande apposite e non corrette per farsi dare una risposta che a lei piace un un avvocato diciamo o meglio una risposta la risposta che deve dare un avvocato a quella domanda non è quella che ha dato il collega la risposta alla domanda che fa la bugamelli è ma si possono far vedere gli atti di indagine a quella risposta la risposta esatta è quella di un avvocato dipende dalla fase in cui si è no se si è in fase di indagine sì se ci sono c'è un atto o di chiusura o di proseguimento dell'azione penale che comporta che il denunciato ha la possibilità di avere contezza delle indagini che sono state fatte perché e finisco con la rottura di coglioni di della procedura penale perché la questione guardate del segreto probatorio istruttorio che si dice quindi il segreto delle indagini che fa la procura ragazzi è un solo fine cioè non far sapere a quello a quello verso nei confronti dei quali si stanno facendo le indagini di farglielo sapere perché può alterarle può cambiarle può far disperdere le tracce quindi nel momento in cui ti ho indagato e sto facendo le indagini a te indagato non te lo devo far sapere ecco perché non si possono non si possono dire c'è segreto nel momento in cui all'indagato gli hanno detto bello abbiamo chiuso perché non hai fatto una sega oppure guarda ti mandiamo a processo come è successo a zeppellini nel processo di roberta per truffa ti facciamo il processo basta gli atti sono estendibili anzi visto che gli piace tanto tanto le parole della procedura penale alla bugamelli te ne insegni un'altra la discovery vai a vedere sul vai a chiedere e a capire che cos'è la discovery sì scusa eh già da di florio in che senso ha detto cose personali di me io marazzita lo conosco appena è vero eh l'ho sentita io perché ieri ero in live con ehm che cosa puoi sapere di me questo scusa mi fa me capire che vuole no no ha ripetuto che è stata raccontato mh la la tua storia con strano ma che cosa c'è lui con stato che lui conosceva tutte e due che quindi in un momento io io l'avrò visto tre volte in tutta la mia vita che conosceva un conflitto che questo conflitto non potevate avere e che lui a quanto pare e mi pare di aver capito avrebbe stilato un accordo ma quale accordo ma questo è un domani completo ma quale accordo è un accordo molto strano ma non diciamo cazzate ma questo si sta dicendo ma che sta dicendo se ha detto questo questo signore ha dei grossi problemi proprio di tipo cognitivo perché questo è un delirio non è mai esistito alcun accordo tra me strano lui non è mai stato investito di fare alcun accordo ma non scherziamo ma non scherziamo se non dicesse cazzate e non si dice di dire cazzate di inventarsi minchiate sul mio conto con marco strano c'è stata una vicenda giudiziaria molto aspra non c'è mai stato alcun tentativo di di accordo di alcun genere ci manca solo ci manca solo e lui non ha avuto nessun tipo di ruolo perché nessun tipo di ruolo ha avuto per quello che mi riguarda nessuno quindi non dicesse cazzate nino marazzita non dire cazzate fate la cura di memoria prima di dire cazzate serie perché già sei nei guai che ci sei già beccato due denunce arriviamo alla terza non c'è mica problema non 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 contate sulla mia pietà perché quando sono nata io sono sono totalmente sprovvista di quel tipo di condizioni puoi anche avere 115 anni non me ne frega assolutamente niente se sei già beccato due di denunce una peraltro in concorso per altri persecutori ma arriviamo alla terza eh cazzate sul mio conto non ne devi dire pensa a quello che hai combinato te nella tua vita che probabilmente ce n'è già d'avanzo da cui pensare pensa ai piedi della bugamelli ma non rompere i coglioni a me perché non è proprio il caso ma roba da matti si manca solo delle le farneticazioni di uno che non sa manco più di stare al mondo cioè veramente è incredibile incredibile cioè ogni giorno ne scopro una vabbè scusatemi mi hanno informato no che la signora bugamelli sta diciamo attraverso i suoi social su youtube da quello che ho capito dicendo che noi addirittura adesso facciamo le live con silvia allora nessuno aveva invitato silvia né tantomeno le abbiamo detto di non venire non c'è nessun tipo di contatto tra l'altro silvia è rimasta veramente provata da questa cosa e ha fatto un video e non se la sentirà mai di andare in live proprio perché andando in live dalla bugamelli lei se l'è intortata e gli ha fatto dire quelle cose che poi fondamentalmente lei stessa non si è resa conto perché ragazzi non è da tutti io non ho mai invitato ma infatti no ma tra l'altro io ho parlato io se parlo consiglio ci parlo privatamente perché mi interessano alcune risposte in vista della nuova denuncia che sto preparando perché la sua testimonianza è una falsità anche quella è una che apre la bocca ancora prima di ispirare da ossigeno mente ma assolutamente mente c'è una cosa è compulsiva si sono trovati guarda una coppia ideale una coppia ideale cioè proprio fatti l'uno per l'altra capace di mentire senza la benché minima esitazione di mentire su qualunque cosa di recitare qualunque parte ma i dispiace quelli che adesso vengono qui scrivono sono dispiaciuti ragazzi ci mancherebbe cioè non avete mica fatto niente voi cioè avete sbagliato su una persona capita a tutti nella vita di prendere cantonate tutti nessuno escluso quindi ma ci mancherebbe nessuno ve ne fa una colpa il fatto già che siate qua e a ragionare su altro credo che ve ne faccia ampiamente merito del fatto che avete capacità critiche quando poi vi sono state offerte delle informazioni evidentemente più affidabile avete fatto un passo indietro come è normale che sia per cui ci mancherebbe però questa è proprio bugiarda cioè adesso deve far credere che la silvia segato sia manipolata anche lei silvia segato una ragazza che sicuramente è stata manipolata certo ma da lei però da lei e dal suo amatissimo convivente non da noi perché noi io contatti diretti non li ho mai avuti ci siamo soli parlava con monica sapevo che parlava con me diretti non li ho mai avuti e visti anche la situazione non era opportuno che li avessimo ok io l'ho scritto un unico messaggio pubblico su youtube è l'unico contatto che ho avuto con questa ragazza nel momento della pubblicazione del video mai no no io sono stata contattata da da serafini o sapevo questa cosa non avevo mai parlato con silvia poi allora in verità la storia è questa silvia qualche mese fa mi ha chiesto l'amicizia sui social ma non mi ha mai parlato io pensavo che volesse parlarmi invece non l'ha fatto e quando quindi ce l'avevo tra gli amici di facebook quando ho saputo insomma che qualcosa si sarebbe mosso e ci siamo scambiate qualche battuta ma nulla di che io poi quando hai iniziato diciamo un po sul gruppo questo tormento a volte anche sul gruppo sono stati dei commenti pesanti su silvia io un giorno le ho scritto guarda a me dispiace che commentino in questo modo però vi dovete rendere conto che se ve ne state in silenzio no è chiaro che le persone vi pungono un po perché vorrebbero una reazione e sapete cosa mi ha risposto silvia no non ti preoccupare io gli insulti me li merito tutti vabbè perché mi ha risposto così perché da persona matura la cazzata che ha fatto e se ne prende le conseguenze che pone bene per lei perché è un io solido uno che riesce a fare un passaggio del genere c'è una persona che ha una personalità solida sana monica banni lady sono andata a sentire le live comunque ma razzita dice in diretta che è stato nominato dalla bruzzone dall'ex un pagno come avvocato di entrambi ma questo è pazzo cioè non è mai esistita questa cosa mai cioè lo sfida tirar fuori una mia nomina a lui o un atto a lui delegato in quella vicenda il mio avvocato è sempre solo stata la avvocatessa maria cristina ciace non ho mai avuto nessun altro avvocato in quella vicenda il mio avvocato principale era lei tutti gli atti erano i suoi la nomina sempre solo avuta lei c'è stato qualche sostituto su altre questioni in altre parti d'italia per gestire delle magari delle udienze filtro ma non c'è ma è sempre solo stata lei marazzita non è mai stato il mio avvocato e scusate ne vado fiera vista la situazione non dicesse cazzate non si attribuisse nomine da me ricevute perché quest'uomo mai le avute e tantomeno mai potrà mai avere quindi non dicesse cazzate è una cosa falsa io non ho mai nominato nino marazzita mio avvocato non è mai stato l'avvocato mio e di questa altra persona non ha mai fatto da mediatore non dicesse cazzate perché questa è mitomania mi spiace però se uno deve arrivare a questa età per dire cazzate magari è meglio che prima ci ragiona un attimo perché non è da parte mia non ha mai ricevuto alcun mandato ma nemmeno transitorio nemmeno orale zero cioè perché non mi è fidata a lui non non ho mai avuto stima di questa ma pure prima quindi ragazzi lo conoscevo e garbatamente se lo incontravo ci si salutava ma non è una persona verso io cui abbia mai nutrito stima con cui abbia mai collaborato tantomeno mi sarei mai rivolta a lui per una questione di quel tipo quindi non dicesse cazzate vi dico ragazzi molto tranquillamente che nino marazzita si ha detto questa cosa ha detto un'enorme cazzata una falsità c'è poco da discutere qualcuno chiede dell'interpol ragazzi lei anche nelle ultime live no fa questo cavallo di battaglia che se fosse vero quello che diciamo la sarebbero andate per arrestare ragazzi ragazzi non funziona così non c'è lo stato di polizia cioè non è che sia proprio una priorità andare a prendersi due scappati di casa è dieci anni che lui è lì da solo è dieci anni che si nasconde in mezzo agli stupratori e maniaci e si mangiano mcdonald's e probabilmente qualche topo che gli avanza dalla cantina cioè non non è una priorità vabbè ma è una zappa sui piedi perché lo stesso vale per noi non è una argomentazione ma se fosse vero quello che dice lei noi dovremmo essere in carcere che siamo in Italia mesi anni cosa che invece come vedete ma dovreste rispondere Zeppellini è dieci anni che sta in America è riuscito pure a farsi dichiarare incapace di intendere di volere è rimesso in libertà quindi insomma cioè non è che qualcuno dice però i documenti la corrente elettrica la casa ripeto è dieci anni che sta lì è dieci anni che riesce a affittare una casa attivare un contratto della luce internet mangiare in dieci anni sarà anche ammalato qualche volta avrà avuto bisogno di un medico quindi non è che dobbiamo pensare che l'America è questo stato dove ci sono questi controlli tra l'altro lo hanno spiegato anche abbastanza chiaramente sia a Sant'Anico quando ha chiamato che lei lo dice sempre sia anche la Reich ha restituito questa cosa la polizia lì degli immigrati non gliene frega nulla cioè non fa un controllo gli immigrati li va a prendere soltanto l'ufficio immigrazione quando li becca cioè neanche se li segnali quindi purtroppo questo è certo che c'è da l'Italia pugalare e disciplina al massimo dicevano spesso a vista di interpollo il compenso di chi di 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 fai da punto in effetti sì non è non è una prova della loro innocenza il fatto che non se le siano andati a prendere peraltro mai porre limite alla provvidenza ma non è che questo dimostra che abbiamo torto noi e che purtroppo sta stando là hanno questo vantaggio perché non gliene frega niente là di quello che questi combinano qua fondamentalmente al limite è una procura italiana che deve fare un ordine di cattura perché in America tutto sommato non è una situazione così grave da imporre un certo tipo di gestione questa è la verità insomma hanno ben altri problemi anche loro e quello degli immigrati illegali evidentemente in quel momento non è una priorità Matrix 70 a pagamento rispondo a Matrix 70 che dice scusate ma come fanno se hanno bisogno di andare in ospedale una visita medica e normali servizi di tutti sono tutti a pagamento anche perché in America diciamo come ci hanno detto legali americani intanto è facilissimo ottenere ed avere documenti falsi anche perché in America non c'è il servizio sanitario nazionale che ti copre le spese se hai un problema in America se hai l'assicurazione paghi ti curano e vai in ospedale e diversamente muori in cartina allora Samuel quindi di reati diciamo ipotizzabili relativamente alle condotte della Bugamelli ce n'è più di qualcuno noi i contenuti dei video li abbiamo tutti messi a disposizione e continueremo a farlo poi chiaramente è un magistrato che dovrà uno o più quelli che saranno investiti di queste inchieste valutare le sue condotte anche sotto questo profilo il problema non è mostrare documenti falsi in una live perché chiaramente questo diciamo tutto sommato non è che sia tutta sagravità il problema è fornirli a una procura cioè produrre documenti falsi che vanno in mano alla procura tant'è vero che la cara Bugamelli col cazzo che ha scritto sono rifugiata in America perché perseguitata da Bruzzone in coi magistrati italiani ha scritto residente a Roma dicembre 2022 ragazzi qualche mese fa quando già strillava e sbraitava che aveva l'asilo che probabilmente era il kindergarten diciamo di forse un altro tipo di asilo quello che probabilmente non ha ancora superato ma probabilmente lei già prima parlava di asilo come rifugiata come mai non l'ha scritto ad Alessandria che ha rifugiato in America perché l'ha perseguita a Bruzzone in coi magistrati italiani secondo voi perché ha scritto che capo ufficio triche balacche del protempore della triche balacche nulla è il td perché ha scritto questo e non che ha rifugiato in America perché Bruzzone in coi l'ha perseguita però in un documento non ha scritto è una procura col cavolo che l'ha scritta sta roba e col cavolo che l'ha fatta vedere a voi della community ragazzi ma pensate anche il divenire ma pensate anche il divenire cioè quello che non ci dobbiamo dimenticare è da dove è partita e dove è arrivata cioè lei man mano ha modificato le cose ha aggiustato il tiro cioè sono delle cose che fanno confusione proprio per farci tendere a dimenticare questo passaggio ma in realtà lei è iniziata da una parte e sta arrivando altrove fino a tutte le assurdite che abbia visto però se ritornate indietro nella ricostruzione dei fatti diciamo sei stata un'evoluzione che sta diventando ormai sempre più ridicola adesso io sono curiosissimo a vedere sta roba del viaggio che si stanno andando a fare e gli è mancato diciamo qualche passaggio Exxon Valdez che probabilmente sei diciamo o un fake o diciamo qualcuno che è un po' distratto questa qui Sabu Gamelli con Sto Zeppellini è esattamente due anni che ci perseguitano in ogni modo con false accuse, false denunce falsi scandali, false minchiate di tutto e di più quindi ci interessa sta storia perché è anche ormai diventata la nostra storia e mi pare più che sufficiente questa come motivazione che dici chissà cosa stanno mettendo insieme adesso questi due perché leggevo nei commenti che lei prima ha fatto un post del viaggetto cioè che significa? Mi sono perso un pezzo ma è un anno e mezzo che annuncia lei crea hype perché così sabato andate tutti lì a guardare la live e lei ha i numeri lei ha un anno e mezzo che adesso sta facendo un viaggetto sabato va per si inventa le storie per non andare in live oggi Monica aspetta il viaggetto che stanno facendo il trasloco e può essere me la posso dire una cosa? non ha la possibilità non ha la possibilità quando Roberta Ray arriva a Busse Street e vede la casa sua peraltro che è online che era la sua non è che l'abbiamo creato noi il sito falso dove c'erano i dati catastali ok? È sua arriva Roberta Ray fatalità due giorni dopo vendiamo mamma mia vendiamo un anno dopo esatto l'acquisto vendiamo perché è arrivata Roberta Ray ma il problema non è Roberta Ray perché Roberta Ray è già andata via quindi non è Roberta Ray il problema è tutta quella fila di gente americane nel servizio delle iene a cui lui ha fottuto soldi su soldi ingannati in tutti i modi affitti, contraffitti di tutto che vedendo dove stava probabilmente potevano anche andarsela a cercare voi che dite? quindi il problema non è Roberta Ray non è Roberta Bruzzone non è Monica Demma non è Langella non è Gasperini non è neanche PM Giovanni Corona sono tutti quelli a cui Mirko Seppellini ha combinato guai ha rubato soldi perché se lui lo sciogliono dentro ad un bidone due giorni dopo era già in vendita la casa con tutti i mobili altro che investimento la casa l'hanno comprata dopo che un'azienda l'aveva presa per quattro spicci del resto insomma l'ambiente è quello che... 65 mila dollari 65 mila dollari e la rivendono da 285 mila dollari ammobiliata 28 mila euro dei mobili che cazzo di investimento hai fatto? fammi capire pagando le spese dell'agenzia pagando l'agenzia ci hai rimesso come minimo 50 mila dollari come minimo cioè fammi capire sei disperata stai scappando come una ladra siete due veramente due scappati di casa davvero ma tecnicamente perché siete dovuti scappare a gambe elevate stasera non devi fare viaggetti strani devi andare via perché se dovete andare via ragazzi ma i caro Zeppellini lo cerca da tempo lì è un bel problema ma non vi preoccupate che vi ritroviamo ragazzi comunque io potrei anche vi lanciare nella peggiore fogna del pianeta vi ritroviamo tranquilli che vi ritroviamo potrebbe anche essere che non vanno in live perché lui urla praticamente da ieri dopo il video di Silvia e quindi probabilmente non riesce a placarlo ragazzi perché le urla io ormai la sua voce con tutti gli audio che ho sentito perché lui ha insegnato fondamentalmente a tutta la gente che ha avuto a che fare con lui a registrarlo quindi siccome io proprio già lo sento le urla e quindi probabilmente noi ci aspettiamo chissà che cosa ma semplicemente chiusa in casa non può fare la live perché se no senti che di sottofondo John che urla tipo posseduto quindi non non immaginate che dietro questo sceleggiata ci sia chissà che cosa il teatrino ormai è crollato ascolta il teatrino è ampiamente crollato ma lo sa ragazzi ragazzi io ancora di più perché secondo voi c'è la morte con Corona perché secondo voi lei c'è la morte con Corona perché proprio a Corona gli ha detto di tutti i colori al PM Corona perché sa benissimo che Napoli Nord a breve chiuderà l'inchiesta siamo questi giorni ormai verosimilmente e a quel punto quando andranno tutti a processo per associazione a delinquere finalizzata alla froda alla calugna e alla truffa di che cosa racconterà che il PM Corona è tanto cattivo alla perseguita cioè fammi capire perché lei c'è la con Corona che Corona non l'ha mai indagata al momento poi insomma ma proveniente visto quello che gli ha detto sicuramente non avrà a poco tempo fa no perché lei non era tra gli indagati quindi era la proprietà transitiva che siccome perseguita il suo amatissimo Mirko Zeppellini allora per proprietà transitiva perseguita anche lei scusate però lei ha depositato che è il rappresentante del marchio M Team quindi lei è M Team perché è M Team no fondamentalmente quindi è come se però lei ha sottoscritto quindi astrettamente per la vicenda Cantone lei non dovrebbe essere beh ma per tutte le altre per tutte le altre perché adesso c'è l'effetto domino siccome ormai le procure lo sanno sono state informate probabilmente immagino io che si saranno che sentiti tra i vari PM è una mia ma lei l'ha detto lei l'ha detto che si informano perché è naturale che sia così perché i PM si sentono perché quando ci sono cose parallele hai fatto una valutazione corretta Roberta e io ti confermo che i pubblici ministeri che hanno avuto a contatto hanno ricevuto denunce hanno quindi hanno usato Mirko Zeppellini si sono tutti coordinati perché ognuno nel loro piccolo hanno acquisito degli elementi che poi banalmente perché Mirko Zeppellini è una zappa ovviamente si è contraddetto e quindi è necessario e hanno capito che unendo le forze e scambiandosi le informazioni Zeppellini si è auto fottuto e quindi si sono fottuti Francesca no perché sono in tre per alcune truffe che hanno commesso sono in tre Bugamelli e Bugamelli Zeppellini e l'avvocato che i soldini li ha presi anche lui quindi sono tre ne basta come quindi siamo lì io stasera ripeto volevo concentrarmi sul discorso di Serafini del manager diciamo della Segato che è appunto un creator anche lui perché tutta la questione Serafini era un modo per ottenere i dati degli altri youtuber degli altri creator degli altri streamer ok per cercare poi di creare un problema a questi metterli in mezzo in qualche falso scandalo mediatico in modo tale a sporcarne l'immagine e fare spazio alla Bugamelli perché questo era l'obiettivo ragazzi se voi leggete il testo della denuncia che noi abbiamo obiettivamente il vero senso di quella denuncia a Serafini è proprio quello di coinvolgere un numero diciamo di creator i più importanti fondamentalmente nel panorama italiano di True Crime per cercare di sgominare tutta una serie di competitor ingombranti e insuperabili dalla Bugamelli quindi è lì c'è un disegno molto preciso molto preciso non è soltanto anche da lei non è soltanto un attaccare Serafini e diciamo alcuni altri soggetti l'obiettivo è proprio quello di creare il presupposto per organizzare l'ennesima campagna mediatica malevola e strumentale per ottenere vantaggi tant'è vero che lui denuncia Zeppellini denuncia con la falsa identità a Jonathan Melamy Serafini a ottobre quando in realtà Serafini e M e Team ancora avevano rapporti lo spiega l'avvocato ancora si parlavano ancora c'erano mail dove Serafini chiedeva ma allora mi mandi il contratto quindi era una situazione assolutamente ancora tra parentesi non deflagrata dopo lo diventerà ma in quel momento Serafini non lo sapeva ma era già stato denunciato sì ok quindi questo è l'idea ma ragazzi e attenzione Bugamelli che ancora era in contatto con la Segato se ne è guardata bene dal dire oh Silvia guarda che c'è un problema del genere guarda che Serafini è nei guai non gli ha detto assolutamente niente loro lo scoprono quando gli arriva la notifica che c'è la richiesta d'archiviazione la Bugamelli col cazzo che è andata a dire alla Segato che tanto considerava un'amica che Zeppellini aveva denunciato Serafini anche coinvolgendo la Segato c'è da dire una cosa ragazzi quando ho saputo questa storia a me non ha fatto alcuna impressione perché il suo delirio è iniziato quando ha tirato in mezzo in maniera deliberata Anna Manna una ragazza che a quanto pare lei ha sempre odiato nel mezzo del questa storia l'ha raccontata già Anna Manna ve la ripeto brevemente quando lei fece un video in cui accusava il tentato sequestro nel suo gruppo Mirko Zeppellini Edoardo Conti Michele Maresca e Francesca Bugamelli con dei altri alias perché Mirko Zeppellini lì aveva John e quante una forse l'altro nick era Anthony 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 Speranza e Terry John e quindi loro sono andati a commentare Zeppellini con Terry John dice ma sbaglio poi in quel gruppo c'era il mod di Anna Manna e Edoardo Conti o Maresca non mi ricordo rispondono eh sì hai proprio ragione ma si può arrivare a questo per rivalità tra streamer ma in buona sostanza gli ha proprio detto che Anna Manna aveva mandato il suo mod a dare informazioni su di lei e organizzare il suo rapimento Anna Manna poi ha raccontato la seconda parte della storia che io non conoscevo l'ha anche contattata e gli ha chiesto ma ho stravisto è un errore o cosa e lei sapete cosa gli ha risposto ti faccio parlare con il mio avvocato quindi quando qualcuno dice cosa c'entra a Bugamelli con Zeppellini ora voi mi dovete spiegare a Zeppellini di Anna Manna che cosa gliene frega a Zeppellini di Sebastiano Serafini o di Occhio Crepi che cosa gliene frega perché sono andati a colpire loro ve l'ha detto Roberta all'inizio del video perché volevano sbaragliare la competizione terra bruciata tutti sporcarli dal punto di vista mediatico farli farli passare per della gente che fa delle cose losche in modo tale da fargli in qualche modo un danno di immagine e fare spazio alla Bugamelli che questo era l'obiettivo era perché non c'è a Zeppellini di questi non gliene frega niente assolutamente niente questo è un regatino alla sua convivente progettato in maniera congiunta perché lei c'è di mezzo perché altrimenti avrebbe avvisato Silvia Segato in un momento in cui ancora erano amiche perché non l'ha avvisata? Te lo posso posso leggere un passaggio che lo spiega? Poi rispondiamo a Always in Time che dice cosa farebbe scattare un mandato di arresto internazionale banalmente la richiesta dell'autorità italiana appunto perché lo vuole che venga processato in Italia o perché una volta condannato vuole che la pena sia espiata in Italia tutto qua allora vi voglio leggere questo passo che è all'interno della richiesta di archiviazione appunto della procura della Repubblica di Trento e quindi si sta parlando del procedimento di Serafini dice il denunciante segnalava quindi Mirko Zeppelini segnalava altresì che dopo aver saputo che la TMS Group cioè lui stesso aveva scoperto le attività illegali dallo stesso svolto e quindi le attività illegali di Serafini il Serafini aveva inviato attenzione via Whatsapp agli influencer tenetevi forte tra cui una tale Francesca Bugamelli per invitarli a non fidarsi di loro e di non ascoltare eventuali loro comunicazioni cioè cosa cosa fa MT cosa fa Mirko Zeppelini dice guardate che la prova ve la fornisco io e vi faccio dire da una che è stata contattata da Serafini che una tale Francesca Bugamelli cioè Francesca Bugamelli si prestava a fare una falsa testimonianza e quindi a rendere delle dichiarazioni false all'autorità italiana per far contento Mirko Zeppellini e questa cosa gli sarebbe ben riuscita perché come vi ho detto l'attenzione è agli influencer e quindi li avrebbero atterrati l'obiettivo era quello la Bugamelli è andata lì badate bene perché l'ho detto anche ieri sera Zeppellini l'ha pescata Zeppellini la Bugamelli aveva parlato di Cantone di Biondo trattando true crime e aveva anche accennato a questo M team dicendo addirittura ma io li vorrei quasi intervistare Mirko Zeppellini che è uno che ha molto attento capisce benissimo quanto questa qui si possa tra virgolette vendere ed essere disponibile per arrivare ad essere un influencer di true crime potente e quindi lui la fa venire la fa andare lì perché lui gli promette il mondo gli ha promesso che sarebbe diventata la prima influencer la più famosa anche perché lei avrebbe avuto la disponibilità dei documenti che lui gli avrebbe fornito perché lui aveva tutti i casi di cronaca nera più importanti e più altamente mediasi dici dell'italia quindi lui gli ha detto tu con me gli rompi il culo a questi cioè tu sarai famosissima e questa ha preso ed è corsa perché lei vuole essere solo quello voleva fare solo quello lui gli ha fatto vedere la carota e lei ci si è attaccata ora poi che cosa hanno fatto ad un certo punto dovevano anche incrementare questa cosa perché loro ci guadagnano e quindi radiamo al suolo tutti quelli altri in modo tale che tu tu leggi il testo integrale della denuncia che ha fatto Zeppellini tramite la sua falsa identità Benamì è chiaro è chiarissimo il disegno è pertestuosa l'accusa a Serafini con l'obiettivo in realtà di raggiungere i vari creati che lui ha in qualche modo nel suo circuito è chiarissimo che l'obiettivo è quello di sbaragliare la concorrenza della bugamento chiarissimo ovviamente non con mezzi leciti cioè impegnandosi costruendo contenuti migliori degli altri che è più che normale che uno cerchi comunque di emergere questo nessuno ci mancherebbe è una cosa che ognuno di noi può tentare di fare basta che lo facci in maniera onesta e puntando sull'impegno e sulle proprie qualità è chiaro che evidentemente qua si è cercata una scorciatoia come si è cercata in tutti gli altri settori perché questa signora non ha proprio modo di sfondare perché ci ha provato in tutti i modi e non ci è mai riuscita e quindi quando ha visto che neanche la questione M team e neanche tutte le cazzate che ha detto su di me su di noi sono riusciti a portarla dove voleva a quel punto è arrivato l'attacco quando hanno agganciato Serafini tramite la segata non gli è parso vero non gli è parso vero perché avevano l'occasione di buttare fango su tutti i grietero più importanti ragazzi scusatemi io non ho non ho letto diciamo il fascicolo però vi dico una cosa perché qualcuno qui chiede lei adesso si sta attaccando alla storia del fatto che non è stato archiviato allora per quello che sapeva Serafini il caso è stato archiviato perché lui non ha ricevuto alcuna notifica quando si parla dell'archiviazione se loro hanno fatto opposizione l'ultimo giorno e magari loro non sono stati informati non sposta di una virgola perché opporsi è un diritto di tutti ora opporsi con la mole di informazioni che ci sono in quel fascicolo Monica c'è il decreto di archiviazione no per Serafini no sì c'era sì però non c'era l'opposizione c'erano i tempi dell'opposizione però potrebbe anche essere che l'hanno fatta perché i tempi scadevano quando loro hanno mandato il video e che non siano stati informati ma ragazzi non sposta di una virgola perché le informazioni dati le indagini le indagini concludono che devono indagare Zeppellini per per essere diciamo per essersi spacciato per qualcun altro ma anche per Serena e Roberta hanno provato ad opporsi perché Guglielmelli cioè hanno mandato una serie di scritti inutili che è già stata sentita e ha già detto che la Bruzzone e la Gasperini non c'entrano niente quindi è inutile a risentirla ragazzi Guglielmelli ha mandato diffide a tutti esposti a tutti denunce a tutti a persone normali ad avvocati a magistrati perché io ci credo che l'abbia fatto cioè io non lo so come l'hanno armato a un certo punto ha avuto quasi il dubbio che non le mandasse lui ma aveva la chiametta digitale quindi insomma qualcosa aveva da fare ma secondo me neanche le leggeva cioè le denunce le scriveva direttamente Zeppellini quindi non c'è non è da escludere che abbiano potuto ma non cambia non sposta di una virgola cioè li hanno massacrati Guglielmelli se la vedrà lui cioè ragazzi io ho ricevuto un esposto delirante all'ordine degli avvocati e non sono la sola cioè una cosa abbia denunciato evidente e credo probabilmente che il motivo della diciamo della non comparsa nelle nelle live della Bugamelli del collega Guglielmelli ipotizzo che sia un problema il motivo sia giudiziario perché agli occhi diciamo di una tecnica vedere le autentiche e i timbri su delle nomine che oggettivamente non possono essere autenticate questo per noi è un problema serio prima di tutto con l'ordine e va bene ma poi è un problema proprio con l'autorità giudiziaria quando si autentica una firma l'ho detto l'altra volta e io firmo io sto attestando che quella firma tu l'hai messa davanti a me cioè davanti a me che io ti ho di fronte e vedo che firmi ora mi chiedo come ha fatto il collega ad autenticare una firma di tre persone perché ha autenticato le firme di Mirko Zeppellini John Benamì e di della Bugamelli che poi sono due e che stanno entrambi negli USA quindi penso che l'assenza di Guglielmelli io credo che sia stata causato da questo perché quelle autentiche quegli atti sono andati nelle mani di un pubblico ministero e se tu mi scrivi aspetta se tu mi scrivi nella nomina che abbiamo fatto vedere prima che io risiedo a Roma ma sono domiciliata a negli Stati Uniti e vedo che c'è la firma tua nel luogo di Napoli 22 dicembre mi sembra non lo so che data c'era non me la ricordo 16 dicembre 16 dicembre e a Napoli e poi basta un accertamento per vedere ma Francesca Bugamelli dagli USA è mai arrivata a Fiumicino e quindi poi a Napoli no e allora quella autentica l'avvocato Guglielmelli come ha fatto a metterla credo sì esiste davvero esiste davvero credo che sia più parte della squadra loro ma esiste davvero credo che il fatto che sia assente e che quindi abbia interrotto i rapporti sia per un problema giudiziario e credo che il problema giudiziario sia nell'ambito di M-Team Bugamelli firme e quant'altro ma non solo hanno dichiarato pubblicamente sarebbe minimo sarebbe minimo cioè ricordatevi che lui ha denunciato ha depositato delle denunce a nome di Jonathan Benamì e poi ha dichiarato pubblicamente di aver acquisito cioè di aver assunto la difesa di Mirko Zeppellini sono la stessa persona ha depositato la nomina a Roma nel processo è stata gravata cioè la nomina di Guglielmelli a nome per conto di Mirko Zeppellini ora caro Guglielmelli per carità era questione di tempo perché siete colleghi quindi c'è il dovere di colleganze quindi in qualche modo non ci può andare giù con gli scarponi come invece ci posso andare giù io perché per fortuna non siamo colleghi quindi Cicciomino tu ora ci vieni a dire che cosa come ti difenderai tu hai fatto hai sottoscritto la nomina di un tal Jonathan Benamì e di un tal Mirko Zeppellini che sono la stessa persona e non ci sono più dubbi ragazzi per favore cioè ormai credo che sia pacifico hanno la stessa voce ragazzi hanno la stessa voce ormai se l'hanno detto per messo nero blu bianco tu Guglielmelli mi fai veramente il favore di spiegarmi come cazzo fai a essere l'avvocato di una persona che non esiste ed è la falsa identità di quell'altro tuo cliente a sostenere che tu non ne sapevi niente come cazzo fai non te ne sei accorto ma tutto a posto sì cioè non ti sei accorto che hai sottoscritto la nomina di uno che è di un altro che è l'alias del primo non te ne sei accorto veramente stiamo così e devi fare la professione io mi auguro perché lo chiederò che tu venga radiato perché uno così l'avvocato non lo deve fare a mio modo di vedere e questo chiederò così come tu ti ho denunciato più volte perché ritengo che quello che hai fatto è di una gravità assoluta e che non può esserci alcuna scusante abbi pazienza ma io ripeto non ho dovere di colleganza e ti tratto per come meriti di essere trattato perché hai fatto delle cose che non stanno né in cielo né in terra e uno che indossa una toga quella toga la dovrebbe onorare e tu hai sottoscritto peraltro facendo anche denunce le miei confronti false calugnose hai sottoscritto la nomina di Jonathan Bellamy benificata da te io non lo dimentico questo nella denuncia per calunio ci stai pure te ci stai pure te posso chiedere una cosa uno qui non so se Lorenzo Potter tu sei lo stesso che segue le dirette della Bugamelli tu ci stai facendo delle domande no ma se tu sei tutti tipo due tre giorni a settimana dalla Bugamelli ma perché non lo chiedi a lei perché non le chiedi a lei queste cose volevo rispondere a Monica sì hanno delle denunce sia da parte nostra e non solo perché hanno diciamo pubblicamente detto delle cose gravissime nei confronti di Roberta ma anche mia e di Giovanni dicendomi ah tu sei stata denunciata ma mica solo nel mio profilo cioè sotto il fatto quotidiano ah la Dem è stata denunciata ma loro nel loro gruppo Telegram continuano a diffondere ad un pubblico di circa 500 persone la falsa delle false informazioni e diffondono la paura cioè dicono a questi ragazzetti anche adulti che non si possono riunire per farsi uno spritz perché hanno paura di noi e non è è bello che lo sa perché dice ah ci sono le persone qui che che fanno le spie adesso ora hanno smesso di esporsi pubblicamente però lo fanno sul gruppo Telegram cioè guarda io non non mi fermerò mai davanti a un'archiviazione del genere perché io li voglio vedere in tribunale questi due soggetti se c'è il dubbio che Zeppellini e Bugamelli faranno la fuga d'amore non li rivedremo più ci sono questi tre almeno nel mio conto per mio conto no che stanno in Italia e che io voglio vedere condannati in primo in secondo in terzo grado non mi fermo perché ci hanno creato un disagio enorme notevole che un po' poco fa volevo dire questo no io di Silvia segato ho apprezzato che lei ha non solo chiesto scusa ma ha proprio capito qual era il funcolo della situazione perché il problema non era tanto infamarci ma diffondere il fatto che la Bugamelli era vittima di bullismo e che noi eravamo i cattivi che ancora oggi dopo un anno e mezzo nonostante tutta questa mole di prove ci sono un sacco di persone che eh io non credo a M. Tim la Bugamelli è un po' così però voi vi comportate male e questa non è responsabilità solo della Bugamelli è stata responsabilità di tutti quelli che pur manipolati hanno contribuito fino adesso quindi in un anno e mezzo a diffondere questa credenza che noi oggi fatichiamo a toglierci da da dosso ma perciò io non perdono Bugamelli perché lo ripeto perché non c'era l'altra volta tu avevi il dovere di controllare che cosa è fondamentale per portare avanti questi deliri eh cioè ragazzi mamma mia quello che depositava se denunce farlocche quella di Serafini la nostra ad Alessandria quella cioè è lui eh parliamoci chiaro cos'è aveva dei momenti di depersonalizzazione cosa stiamo davanti a a a momenti di diciamo di così di scissione dell'io di di personalità multipla fammi capire non mi pare ragazzi quando ho fatto le denunce e le depositate ho gli allegati eh sa Bugamelli che cavolo di allegati ha dato no proprio nel pratico cioè tu hai preso la denuncia e l'ha accorto perciò io Guglielmelli non lo vedo come l'avvocato ma è una persona che ha concorso con loro a calunniarmi a perseguitarmi perché non c'è stato nessun tipo di controllo sulla denuncia la denuncia l'ho fatta in concorso con Guglielmelli per rispondere a Overwatch Marazzita disse che l'Abruzzone cercò di farlo staccare dall'avvocamelli io non questo signore sta cominciando a preoccuparmi perché io non c'ho io sono anni che non ho alcun contatto con Marazzita ma anni mi chiamò il figlio di Marazzita Giuseppe e ho salvato tutta la conversazione mi contattò il figlio molto preoccupato per il primo video che fece Marazzita contro di me dalla Bugamelli dove il figlio prendeva le distanze dal padre ma io con Nino Marazzita non ci parlo da molti anni anche questa cosa che ha detto lui è un'altra roba mitomania o forse confusione mentale perché io non c'ho proprio più contatti con lui da moltissimi anni e peraltro non è che abbia mai avuto contatti particolari perché è una persona che ripeto ho visto pochissime volte nella vita non godeva della mia stima non c'ho mai avuto a che fare a me che lui sostenga la Bugamelli veramente guarda non potrebbe fregarmene di meno neanche al massimo dell'impegno perché non è una persona che io ho mai stimato o mai considerato quindi dire che io ho cercato di farlo staccare dalla Bugamelli è un'altra confusione è un'altra fantasia perché io non c'ho mai avuto niente ripeto è stato il figlio preoccupato per la gravità di quello che combinava il padre che si è sincerato di contattarmi per dirmi guarda che io non c'entro niente e non ho nessun potere su di lui perché ormai è fuori controllo perché fondamentalmente è questo che mi ha detto il figlio e me l'ha scritto ma io non c'ho avuto nessuno per cui se Marazzita dice che io ho cercato di farlo desistere e staccare dalla Bugamelli è un'altra fantasia confusa di un uomo che evidentemente forse non è più così presente a se stesso perché già prima mi dice che era il mio avvocato mai è successa questa cosa mo dice che io ho cercato di farlo staccare dalla Bugamelli se dice queste cose ripeto io non l'ho sentito con le mie orecchie ma se dice queste cose sappiate che sono fantasie perché non sono mai avvenute ma proprio mai a me non me ne frega niente cioè lui ci rimanesse tutta la vita Lili va a fare anche la pedicure va bene a me non me ne frega proprio niente di quello che fa Agnino Marazzita ok e tantomeno mi frega se sta con lei o non sta con lei proprio non mi riguarda non è qualcosa che mi sposta qualcosa nella mia ricostruzione dei fatti si è beccato due denunce se vuoi beccarsi la terza prego sia comodi è mica un problema lui sta qua però ragazzi non credete alla manipolazione non credete alla manipolazione domani ascoltate il video della Duda che esce alle 13 che avrete delle sorprese in merito a a questa storia di Marazzita si 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 c'è l'intervista guarda ieri ma scusa Serena volevo allegarmi legarmi a questa cosa ieri con con Francesco Catania abbiamo fatto una live prendendo pezzettino pezzettino tutta la parte di questa della live di Francesca Bugamelli commentando ogni singolo aspetto è venuto fuori anche perché ci stava seguendo Aisha che al telefono con con Marazzita gli ha detto scusa voglio capire ma quindi sei stato intervistato lui dice sì io ho ricevuto questo messaggio che però era in concomitanza anche con altre due interviste che dovevo fare uno per un omicidio un'altra cosa che però non si ricordava e poi questa qua e mi ha telefonato e mi ha detto mi ha mandato un messaggio poi ci siamo sentiti e lei gli ha detto scusami ma come si è presentata e ha detto nome e cognome Aisha scusami ma non si è presentata come la diva del tubo e lui gli ha detto no e dice anche perché se si fosse presentata così io mai gli avrei rilasciato l'intervista perché lei dice eh perché io perché certo mica rilasciresti l'intervista a una che io ho denunciato e poi interviene appunto la diva del tubo che dice che questa intervista l'ha fatta e e adesso poi sentiremo ovviamente gli ha chiesto anche di non vedo l'ora non vedo l'ora ci ha ci ha fatto uno spoiler perché ci vuole benissimo dicendo che comunque una delle domande che ha rivolto a appunto a Marazzita è se conoscesse M Team Mirko Zeppellini eh e la risposta la sentiremo domani sister ma l'ha detta anche Marazzita è live io credo che non sappia proprio di neanche di che cosa sta parlando Roby guarda quando c'è stato un passaggio in cui ehm lei eh Marazzita stava aveva appena pronunciato inizialmente M che lei boom è intervenuta va bene cambiamo discorso e bruscamente io non non mi capacito di come queste persone che la seguono non si rendono conto banalmente di come lei lo riesca a tacitare perché si infila cambia il discorso vi rendete conto che un avvocato che ha avuto un'esperienza lunghissima in questo momento con un'età un po' avanzata ma a voi non vi viene il nervoso perché si comprende benissimo che Marazzita in questo momento non è velocissimo e non lo sto offendendo però si percepisce che ha una risposta sicuramente più lenta e non ha una forza non ha vigore nel dirgli no aspetta Francesca fammi finire quello che ti devo dire perché probabilmente è un po' fragile ma non ti sto dicendo fragile mentalmente sto dicendo che è fragile perché probabilmente lei chissà che cosa gli ha raccontato chissà che cosa gli ha detto e poi lo porta a fare quelle affermazioni come abbiamo sentito anche su Roberta posso dire una cosa perché vedo anche qua in chat che lo ripetono mi stalkerizzano anche in privato dicendo che non dobbiamo dare visibilità alla diva ma voi seguite una che si faceva a mandare le foto dei peni anche dei minorenni e li commentava su Twitch no aspetta no 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 cioè no 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 voi siete qui non lo sapevo e da diverso tempo cioè voi avete il coraggio di chiedere come facciamo a dare credibilità alla diva che non è che noi diamo credibilità la diva ha il suo seguito e forse su youtube e su social è lei aspetta è lei che sta dando visibilità a noi io mi chiedo come fate ad avere il coraggio di fare questi paragoni perché lei andava da presso a di pre che l'ha spiegato e lei ha una sua patologia di cui parla e voi seguite una che si faceva che è stata bannata da Twitch perché si è fatta mandare la bugamelli insieme a un'altra facevano una specie di format e li commentavano su Twitch cioè avete veramente questo coraggio oddio questo coraggio avete era un format perché io li commentavano consapevole del fatto che probabilmente aveva 25 anni non sta tanto bene di cervello avrà fatto una minchiata che magari non ripeterà più ok io ho l'onestà intellettuale di dire che se fosse solo quello il problema della bugamelli e non mi avesse martoriato e fa il true crime e aveva detto nella vita si sbaglia e va bene e voi venite qui a fare le pulce alla diva anche a me in privato ma seguite la bugamelli che fa una cosa del genere cioè io il vostro metro di paragone lo vorrei spiegato perché da questa esperienza mi si è sono gli esordi fantastico sono gli esordi fantastico mi si è aperto perché buttiamole nel cesso le persone perché magari nella vita hanno fatto hanno avuto un percorso particolare tutte tranne la povera bugamelli che bisogna difenderlo questo non lo dico io è su twitch nella sua storia di twitch è stata bannata per quello quindi forse prima di sponsorizzare difendere una ragazza cercate in rete tutte le informazioni che la riguardano stanno confermando anche i nostri amici già che la storia è vera io lo sapevo ragazzi esatto la foto del cadavere di Yara nel suo gruppo Telegram anche lì questa è stata fatta un anno fa quando già era con Zeppellini cioè voi su Telegram che la può prendere chiunque e la manda ovunque ditemi voi se potete mettere al paragone una che dovrebbe essere sana mentalmente con un'altra donna matura che ha fatto degli errori di cui ha parlato si manifesta per quello che è e gioca con la sua ironia dicendo delle cose che a me francamente fanno anche ridere e che ha dimostrato una onestà intellettuale un'intelligenza in questi video come non da pochi io lo dico e non ne ho meraviglia tornate ripete continuate a parlare della viva per difendere la Bugamelli mettete la viva sul piatto della bilancia e ovviamente i follower della Bugamelli cercano di diciamo attaccare perché la diva del tubo la sdraia la Bugamelli assolutamente e poi la diva del tubo ha dimostrato che ha voluto parlare di M Team si è andata a prendere tutto a leggersi tutto a sentirsi tutte le live a sentire quello che dicevamo noi e quello che diceva Bugalala anche perché la seguiva quindi quando una donna che deve affrontare un discorso su Twitch su Youtube con i capelli rossi con le unghie nere come gli pare anche perché è una bellissima donna quindi si può permettere quello che vuole però affronta e si rapporta e studia e analizza tanto di cappello quindi benvenga tutto ciò che dice la diva certo la Bugamelli ha paura perché la diva gli fa un coso così la sdraia la sdraia no non è che si parla è vero abbiamo visto c'è lo screen perché quando poi si sono lamentati questa cosa sui colleghi streamer lei l'ha cancellata la foto ma ce l'hanno testimoniata in tanti che le ha fatto una cosa del genere ragazzi quindi ragazzi ci sono gli screen come gli auto dei gruppi se non volete credere che si comporta male con noi perché noi siamo i brutti e cattivi e quindi va bene e non volete credere che ha accusato Giussi Campioni di aver fatto estorsione a Mirko Zeppellini non volete credere a queste cose va bene andate a ritroso e poi ditemi se effettivamente è questa che poi dico ognuno è libero di seguire chi vuole però non hanno da fare le pulce agli altri perché ve la dovete proprio guardare io quelli che scrivono io non mi fido di M Team però lei tu fai bene il tuo lavoro a me piace seguire ti seguo lo stesso ma che schifo io mi contento che voi mi dite che ci credete che credete che noi siamo cattivi che credete ad M Team e prendete una posizione ma non il contrario perché quello è veramente cioè dove vogliamo andare con un futuro del genere proprio non lo so no ragazzi non scherziamo le foto di Chiara non sono online da nessuna parte le foto non diciamo cazzate ragazzi non ci sono online noi non sono mai state sono uscite da perché sono solo nel fascicolo quelle che erano lì non sono mai le foto del cadavere cioè della della povera ragazza e scheletrizzata nel campo di Chignolo non sono da nessuna parte online non c'è non state neanche in tv quelle sono uscite da qualche fascicolo che evidentemente o qualcuno ha avuto modo di accedere al fascicolo e le ha mandate poi in giro e quindi le ha pubblicate anche lei ma non sono mai quelle lì non sono mai arrivate online ragazzi non scherziamo io ho sviscerato il web perché è un caso che seguo al primo minuto e neanche nei siti giappocinesi c'è la foto di Yara cadavere avreste errorato forse gli indumenti delle cose le foto proprio del cadavere sì perché sono stati messi sono stati messi un'unica volta da un soggetto e me lo ricordo quell'episodio che seguiva sempre il caso Bossetti difendeva la tesi innocentista furono messe ma poi subito rimosse fu un'occasione quindi non sono a deposito sul web e non credo che le abbiano prese in quell'occasione lì perché in quel momento lei faceva il decrating a quelli in quel momento lì secondo me per scalare al successo ma le foto di Yara dal web non sono disponibili saranno da qualche parte ma non sono pubbliche purtroppo quindi le ha messe loro beh le ha messe loro quello che posso dirti è che lì ci hanno dato conferma che lei le ha pubblicate quelle della Salma della bambina sì sì abbiamo lo screen e vi dico una cosa io credo che quelle foto lei le abbia avute perché il fascicolo è stato consegnato a Mirko Zeppellini e questo lo ritengo assolutamente incredibile perché se vi ricordate la telefonata della Rei lui disse alla Rei che con i suoi minchia satelli avrebbe potuto dire allora quello dov'era quello dov'era tra cui il bronzo di Riace e anche chi ha portato e dove era il corpo di Yara ne parla proprio ne parla proprio nel primo servizio delle quindi questo significa che come ha sempre fatto lui cioè che va a telefonare agli avvocati e o alle famiglie che vogliono sapere qualche cosa e si propone io sono certa che lui ha rotto le balle quindi si è proposto alla moglie di Bossetti o a chi per lui o ai figli o ai colleghi che lo difendono dicendo guardate che io sono a disposizione perché ho i satelliti e vi dico tutto e quindi e lui appena ha un minimo di rapporto la prima cosa che chiede è mandatemi tutto il fascicolo anche perché quello sarà utile per la Bugamelli comunque vi confermo che mi hanno mandato il link ed effettivamente c'è un sito dove c'è ancora questa vergogna online delle capre innocentisti perché scusatemi se ci sono tra di voi potete anche uscire con la foto di Yara non so se fosse la stessa comunque non sposta il fatto che non la vado a pubblicare su un sito telegram perché si parla di un minore ma parliamo della salma durante l'autopsia o parliamo delle foto che tipo si intravede il cespuglio che sono due robe diverse quelle quelle dall'alto eh no perché no perché le loro erano diverse però ragazzi eh Laura lo sappiamo da quando è partita che vi ho scusatemi da un'ora che me lo chiede e lo sappiamo da quando è partita perché noi lo sappiamo che non esiste M-Team e sapevamo che lei non era ricca per poter andare a Chicago e stare un mese in un hotel perché una che è ricca non va su OnlyFan a vendere le zinne per pagarsi gli stu per pagarsi le bollette l'ha detto lei eh è stato matematico capirlo quindi se lei va lì e noi sappiamo che esiste solo lui è normale che vivessero insieme e poi lei si vedeva ragazzi si vedeva lui che le versava il vino lei che lo guardava adorante ma poi c'è il libro di Roberta noi abbiamo il video di lei in una delle live precedenti insomma dell'anno del 2022 dove lei mostra un libro che io regalai all'epoca c'era ancora diciamo una collaborazione a Faraone cioè io diedi il libro a Faraone che li ha poi spediti a lui con la mia dedica e lei mostra il libro e la mia dedica e quel libro io l'ho mandato a John Peschiera all'epoca pensavo si chiamasse John Peschiera quantomeno questa era la sua identità sono geniali guarda lei è sempre stata con lui non ci sono ragazzi non ci sono dubbi lei vi viene a raccontare che da sola in quella casa in quella casa non c'è c'è solo loro due vivono insieme la giacca esterna una era di lei una era di lui ma l'hanno riconosciuto i suoi follower quella rossa a quadri le foto che ha pubblicato recentemente sia dell'interno dell'abitazione sono esattamente quelle che avete visto cioè qui si tratta semplicemente di avere un minimo di riscontro percettivo cioè guardate guardate voi stessi poi vi guardate il servizio delle iene ed è chiaro che l'abitazione è di lei perché è intestata a lei con quali soldi l'abbia acquistata magari un giorno lo scopriremo diciamo che io qualche idea me la sarei anche fatta e poi c'è lui lui vive lì lo hanno detto anche i vicini che vivono insieme cioè ragazzi che motivo ha quello lì che era lì la compagna anche lui è Bruzzone in Co anche questo qua che era lì per i cazzi suoi che si facevano la passeggiata lì fuori anche lui Bruzzone in Co che ha detto che vivono insieme no l'ha pagato la Ray su ragazzi cioè voglio dire mi sembra veramente improponibile che cazzo ci sta a fare questa lì a Grand Rapids peraltro nello stesso tipo di location dove viene indicata la fantomatica sede di Emetim che cosa ci sta a fare lei lì in un'abitazione in un quartiere degradato di Grand Rapids cioè veramente non c'è questa è la sua avventura americana stare chiusa in una cantina in una soffitta a fare le dirette per Twitch come capo ufficio che promozione casi della minchia team cioè scusate ma cioè che roba è questo è ragazzi non è che parliamo di altro cioè questa è stata un anno e mezzo chiusa e rintanata in uno scantinato ci stanno le foto e se non era lo scantinato era la soffitta chiusi in casa come due ratti a mangiare McDonald's o quello che sarà perché evidentemente lui vive col terrore che se lo vadano a prendere ma non la polizia italiana o la polizia americana quelle a cui ha rubato soldi e ha raccontato minchiate per anni che probabilmente un po' incazzati lo sono ancora che dite? ma se lo pigliano lo sciolgono dentro ad un bidone per tutti i danni che gli ha fatto tant'è vero che lui porta via l'anima come si dice in Liguria con lei quando emerge dove è la casa perché a quel punto sa benissimo che Marcoccia e tutti quegli altri si passeranno la parola ok? ma avete capito che lui che lui con le sue denunce ha oltre ad aver ritroffato i soldi che probabilmente quelli di soldi ce ne hanno ha fatto in modo che sta gente venisse espulsa dagli Stati Uniti questi non ci possono più tornare e lui dice che sono dei delinquenti lo dice lui eh la Ray non li doveva intervistare ma perché gli ex mafiosi gli ex camorristi non li intervistano in televisione è che lui c'ha paura e fa bene ad averne e fa bene però non ha paura la madre della Bugamelli per sua figlia contenti loro eh ma scusate perché al di là di tutto che dice ah ma lei dice ai suoi follower che sono che è single ma abbiate pazienza ragazzi ma voglio dire ma davvero non avete un minimo di contatto con la realtà ma in una live questa siccome vi dice che è single voi credete che è single ma ragazzi però ragazzi ha anche detto una cosa ha detto anche una cosa che i deboli di stomaco fanno bene a non sentire però ha anche detto che la migliore scopata della sua vita se l'è fatta con un 47enne alzando gli occhi e lanciando un'occhiata stucchevole guarda caso Zeppellini ha 47 anni eh ci aveva l'anno scorso sono tutte casualità aspetta questa ci abbiamo rispondito Samael nell'ultimo mini video la bugamella afferma che avete modificato documenti mail dichiarato per archiviati procedimenti che ancora non lo sono e che volete il suo cadavere cosa dite a riguardo perché secondo te è una che delira e gli rispondiamo perché se questa delira quello che le posso dire a riguardo è guarda trova un psiquiatra in America cerca proprio psychiatri di quelli laureati specializzati a Lourdes quelli proprio bravi e vai a farti fare una visita perché tu hai problemi gravi di delirio cioè tu hai un problema ormai di stacco dalla realtà questo gli direi cosa ti devo dire una che ti dice una roba del genere che si difende delirando esattamente come fa il suo carissimo convivente amante compagno fidanzato cosa ti devo dire che delira e che deve farsi vedere da uno bravo velocemente perché evidentemente c'è un cedimento dell'esame di realtà non vedo cos'altro potrei dirti perché è pacificamente un cumulo di stronzate spaventose deliranti vuol dire che è una che ha perso il contatto con la realtà non c'è altro da dire speriamo che si faccia aiutare che si faccia curare ma ripeto da uno molto bravo ma molto bravo io sono più cattivo perché la voglio viva in carcere esatto a pentirsi di non avere più la libertà per quello che ha fatto io la voglio lì e che paghi con la legge io così la voglio la voglio tra le sbarre e che non possa avere più la libertà di farci del male e farle male alle persone noi non sappiamo proprio che farcene anche perché dopo un po' potrebbe anche pulsare un po' per cui diventa anche difficile da gestire quindi non sappiamo che farcene noi ci auguriamo che lei rimanga in ottima salute il più a lungo possibile e che venga in Italia e che affronti le conseguenze delle sue azioni lei lo sa che questo è il nostro unico proposito che non l'abbiamo mai pianificato rapimenti omicidi aggressioni o qualsiasi voglia altra farmeticante affermazione che lei ci ha attribuito centinaia di volte in maniera chiaramente diffamatoria e calunniosa quindi non c'è problema cioè ripeto io nessuno di noi vuole il suo cadavere perché ripeto non sapremo proprio che farcene da tutti i punti di vista ci auguriamo che ripeto torni in Italia in ottima salute perché ci sono un po' di cosette a livello giudiziario che dovrà affrontare e quindi le servirà parecchia energia e diciamo anche buon temperamento quindi quello che dice questa signora non è altro che l'espressione di quello che sta dicendo da un anno e mezzo cioè un cumulo di minchiate spaventose stop posso dire un'altra cosa lei adesso grida ok Bruzzone Langella Gasperini io mi aspetto che adesso ci sia la sceneggiata madre perché adesso è veramente col culo per terra parliamoci chiaro il creatrino ha chiuso battenti il sito si pari o si sta chiudendo ormai siamo ai titoli di coda quindi mi aspetto che faccia qualche sceneggiata ovviamente recitata dove lei fa credere che sia successo chissà cosa che sta malissimo che ha tentato il suicidio questo me lo aspetto l'ho già detto ve lo ripeto è un copione ormai ampiamente già scritto quindi tenterà di far credere che a causa nostra lei avrà fatto qualcosa che ovviamente sarà un'ennesima minchiata e quindi sappiatelo che succederà cioè lei farà credere che sono successe cose terribili per colpa nostra o che ha tentato il suicidio per colpa nostra si tratta ma non l'ha fatto si tratta semplicemente di una sceneggiata ragazzi prendetelo per quello che è un tentativo estremo ma il motivo per cui ma il motivo per cui io non credo a quei documenti che ha mostrato e non ci crederò mai è che se lei fosse avesse le facoltà di recarsi in un ospedale e farsi certificare un finto un finto un finto il suicidio l'avrebbe già fatto l'avrebbe già fatto perché vi dico che lei lei lo dice che ha tentato il suicidio però non lo dimostra e non lo dimostra perché ragazzi andare in ospedale e dire che ti sei preso un flacone di non so che cosa e farti fare una lavanda gastrica per la causa se fossi ai suoi livelli io lo farei probabilmente lei non lo fa perché non ce li ha quei documenti che dice di avere ma io di questo ne sono convinta anche perché quando abbiamo iniziato a dire che lei era illegale negli Stati Uniti quei documenti li avrebbe mostrati subito invece nel momento in cui si sono cominciati a no a Bianca la muta l'idea perché lo fa nel momento in cui lei ha iniziato a temere perché quando mostra i documenti se voi fate caso fa vedere tutti i commenti negativi ai suoi post no e quindi lei a quel punto cosa deve fare tre giorni perché lei il giorno prima ha detto ve li farò vedere quando ve li posso far vedere ma se tu li hai ricevuti li puoi far vedere immediatamente e poi compaiono magicamente questi documenti il tempo che li ha ordinati su internet ragazzi ma io poi se saranno veri vicini ciao carissimo e se Zeppellini la sacrificasse per accusare la dottoressa Bruzzone beh l'abbiamo scritto è assolutamente possibile per cui guardate che se succede qualcosa davvero cioè se non mente anche su quello ma se succede davvero qualcosa questa qui verosimilmente l'autore è questo signore cioè non certo io ok quindi l'unico rischio reale ora dirà delle battute l'unico rischio reale che corre questa signora è di fare una brutta fine per mano di questo soggetto l'unico vero rischio è il soggetto che lei ha a fianco e che ha scelto di proteggere e con cui sta continuando a commettere fatti gravissimi da un anno e mezzo quando non gli servirà più 22 anni deve essere consapevole di quello che fa e pagarne le conseguenze quindi se vuole restare lì e correre i suoi rischi liberissima di farlo diciamo che non credo personalmente che mi mancherà cosa è stato raccontato alla madre per essere tranquilla ragazzi non lo so però vi dico qual è la loro la loro sceneggiata il loro copione loro hanno sgominato diciamo questa rete di allora Zeppellini ha sgominato questa banda di camorristi che giocavano a Las Vegas quello che va raccontato a Ray e per questo è stato perseguitato è stato arrestato ingiustamente e tutto quanto qui praticamente lui voleva smascherare dire che Bossetti era innocente no l'Abruzzone che invece ha sempre difeso questa parte glielo ha impedito e lui come dimostrava che Bossetti era innocente perché c'era questo giro di pedofilia che coinvolge i magistrati non mi viene il nome della città competente della Bergamo Bergamo quindi c'è tutta questa rete no massonica che protegge i pedofili e che praticamente ha messo Bossetti in galera l'Abruzzone entra in gioco e ce l'ha con lui perché lei ha sempre detto che Bossetti è colpevole quindi come fa a dire che adesso non è colpevole quindi se l'Abruzzone è coinvolta in questo giro di pedofilia non lo so però c'entra per quello ragazzi promuoviamo un piccolo momento pubblicità il mio nuovo libro con Laura Marinaro che è uscito per Mursia e che è proprio dedicato al caso di Iara e a tutta l'inchiesta attraverso il processo che si chiama Iara autopsia di un'indagine e in assoluta anteprima questa sera visto che siamo in tema altro caso di cui mi sono occupata e che siamo insomma in attesa di discutere il processo di appello e uscirà il 30 maggio per PM Mondadori la ragazza del bosco la verità oltre all'inganno il caso di Serena Mollicone quindi visto che siamo qua in tema ragazzi se qualcuno di voi ha un po' di tempo quest'estate questi sono due testi che ripercorrono due inchieste veramente molto complesse in maniera dettagliata e attingendo ovviamente agli atti sia alle consulenze tecniche che al processo così tra l'altro vi volevo dire che mi hanno indicato un pezzo di una live di Marco Crepaldi che è uno psicologo lo dico per chi non lo sapesse e che lui conosce la Bugamelli e ha detto ai suoi diciamo in una live che lei è sempre stata complottista nel suo modo di trattare il true crime e lei ad esempio è una di quelle che difendeva Bossetti ora se poco poco sua madre è della stesso suo avviso ma voi vi immaginate che loro si sono trovati finalmente al centro di questo complotto mondiale quindi non c'è bisogno di andare a scavare intorno a questa storia sua madre l'ha detto che ci crede che la verità verrà a galla e quindi anche dovessero arrestare un giorno sua figlia non sto scherzando lo scriveremo davvero lo scriveremo davvero ci stiamo già lavorando nella raccolta nella sistematizzazione del materiale che è talmente tanto che dovremo anche un po' scegliere che tipo di taglio dare rispetto alla vicenda perché ci sarebbero diverse possibili diverse possibili prospettive da cui raccontare la storia quindi è complessa e cercheremo anche di raccontare quello che lui ha fatto a molte famiglie a me dispiace di quello che è successo con la famiglia Biondo perché non avrei mai voluto arrivare a questi livelli considerate che io davanti a Serena Gasperini e a Roberta Ray perché era presso il nostro studio a Roma nel febbraio del 2021 quindi prima che scoppiasse tutto il casino con Iene e quant'altro chiamai perché mi giunse voce che Santina si era rivolta a M Team e siccome io avevo ottimi rapporti con la famiglia anche se il mio compito ormai era cessato da anni però io avevo ottimi rapporti con loro l'ho messa in guardia quindi l'ho chiamata davanti a Serena Gasperini e a Roberta Ray mi dice Santina fai attenzione perché questi sono veramente pericolosi e non possono che farti cioè non possono che danneggiarti lei mi disse che non aveva avuto niente a che fare con loro di non preoccuparmi in realtà ho scoperto dopo che non era vero perché invece aveva preso contatti e lui era già da quel dì che li conosceva che aveva apprezzato credo di averle dato un buon consiglio all'epoca che credo che adesso abbia compreso fosse un ottimo consiglio purtroppo nel frattempo è successo tanto altro e sono situazioni anche molto spiacevoli però ripeto mi auguro che dopo tutto quello che è accaduto anche i biondo possono aver avuto modo di comprendere la situazione e di difendersi da questo tipo di soggetto perché anche a loro sicuramente ha raccontato tante bugie anche a loro sicuramente ha fatto molto male quindi in questo ripeto mi auguro che questo nostro lavoro anche se ci sono stati insomma dei momenti anche di grande di confronti molto aspri mi auguro che comunque questa storia alla fine abbia contribuito a tirar fuori tutta una serie di famiglie da questo incubo ecco questo sì volete rispondere voi a questo commento? allora no guarda non vuol dire essere complottisti ma vuol dire essere profondamente disinformati credo che per essere innocentista bisogna avere due componenti non capire praticamente niente di scienze forensiche di genetica e avere scarsa capacità critica nelle informazioni da selezionare per farsi un'idea complottista no diciamo che però non mi stupirebbe anche questa terza componente ma le prime due sono certamente indispensabili la terza è accessoria non so se ho risposto alla tua domanda no poi inoltre scusami gli innocentisti ci sono anche persone che ritengono che Bossetti non sia il colpevole e su su alcune per alcuni motivi poi altri gruppi che credo che siano tutti diciamo del pilone del suo avvocato del suo difensore che tutto questo era un complotto si è arrivati a dire che la dottoressa Bruzzone e la dottoressa Marina Baldi genetista forense che non avevano alcun rapporto né in carico all'interno di quel caso avevano creato in laboratorio il DNA di Bossetti allora chi crede che è innocente nulla a questo perché ritengono che ci sono stati degli errori va benissimo ok c'è chi lo ritiene colpevole la Cassazione ha detto che è colpevole però pensare al complotto è veramente surreale siete poco credibili perché va bene che pensate che sia innocente ok infatti c'è chi pensa che è colpevole nessun problema però santo e Dio motivatemela con qualche cosa più puerto qui c'è tutta la sintesi anche di tutta la parte tecnica ci sono tutti i passaggi delle udienze dedicate al DNA che sono state diverse e ci sono tutti i limiti che la difesa non ha mai superato nel mettere in discussione la prova del DNA compreso il fatto che non è mai stata depositata una consulenza genetica da parte della difesa di Bossetti questo lo dicono i giudici non lo diciamo noi ok quindi nel libro se avete intenzione di approfondire la storia farvi anche un'idea un pochino più diciamo vicina a quelli che sono gli atti della causa quindi quelli che sono le udienze le consulenze tecniche le sentenze ecco in maniera estremamente precisa perché noi siamo andati proprio per macro capitoli qui trovate una serie di informazioni poi potete tranquillamente approfondire ma se non altro avrete un'idea precisa di quello che è successo davvero durante il processo perché noi abbiamo usato le trascrizioni del processo e le consulenze per raccontare l'indagine ok quindi avrete modo di sentire proprio dalla viva voce dei protagonisti idealmente perché sono le loro parole quelle che riportiamo nel libro quelli che sono stati passaggi cruciali per arrivare alla condanna definitiva di Bossetti ora va bene tutto però io credo che su casi di questa portata soprattutto per chi non è del nostro mondo quindi non fa questo lavoro quindi probabilmente è bravissimo a fare altre cose ma non ha strumenti conoscitivi particolarmente evoluti in questo ambito così specialistico l'umiltà di dire ma fammi capire un po' meglio la situazione fammi confrontare con chi ne sa più di me forse potrebbe essere l'approccio giusto in casi di questo tipo prima di schierarsi da una parte dall'altra in maniera sufficientemente acritica e probabilmente anche poco intelligente però posso dire poi ci metto la pietra rombale se dopo gli elementi spiegati in questo modo restate ancora sulla tesi innocentista cercatevi un altro passatempo lo dico perché perché comunque il caso Bossetti è un caso che fa scuola perché è veramente molto semplice da seguire se riuscite a capire appunto le spiegazioni le istruzioni dei professionisti del settore se veramente non riuscite a capire perché è stato condannato e perché è colpevole vuol dire che dovete cercare altro con cui passare il tempo perché veramente è un caso che non lascia spiraglio ai dubbi se riuscite a mettere tutti quei pezzi insieme che non sono stati costruiti ad hoc come il complotto però mi dispiace che vi sentite diciamo toccati da questa da questo aggettivo no? però se tu continui a scrivere no? che la difesa non ha fatto l'esame sul DNA tu mi stai dicendo che Bossetti è innocente perché quel DNA non era il suo ora se quel DNA non era il suo come tu dici c'è il complotto perché chi l'ha messo quindi vuol dire essere complottisti cioè è un po' italiana è un laboratorio il DNA di uno che era incensurato e ci hanno messo quasi quattro anni a trovare poi cioè quindi dico non c'è l'errore non si può pensare a un errore vuol dire che qualcuno l'ha fatto con dolo quindi quella è la tesi del complotto poi magari tu non sarai un complottista nella vita non sarai in questa storia ti sei voluto convincere così e non c'è niente di male però in quel caso aderisci alla tesi del complotto cioè non c'è o è bianco o nero quindi non è una cosa che io ti voglio dire per insultarti perché ti assicuro che ne conosco anch'io di complottisti l'alternativa innocentista parliamo di altro l'alternativa innocentista non c'è non c'è un'alternativa che dici cavolo però c'è il ragionevole dubbio ma sai sì nel caso Bossetti non c'è cioè se sapete leggere tutti gli elementi non sappiamo cosa significa complotto non c'è quella via d'uscita cioè l'alternativa è solo qualcosa di artefatto con dolo ok? non c'è un'altra possibilità cioè non c'è neanche l'errore perché l'errore dove c'è in quale fase in che modo in quale tipo di lettura dell'accertamento è stato fatto solo questo quindi veramente come ha detto Monica l'alternativa è il complotto e non c'è siamo fuori fuoco rispetto alla nostra puntata direi ragazzi che insomma credo che abbiamo risposto un po' a tutte le vostre domande e una che insomma spesso tornava quindi la sottoponiamo all'avvocato Gasperini ma con tutto quello che in questo momento c'è a loro carico tra le varie pure interessate nel caso di Zeppellini e Bugamelli di quanti anni di carcere si potrebbe parlare sommando tutte le eventuali pene e allora guarda il reato che reati sono associazione delinquere truffa calugna atti persecutori atti persecutori sostituzione di persona insomma ce n'è il reato più grave e che sarà anche quello che partirà per prima è quello di Rapoli Nord è la frode processuale e ovviamente quello è il reato che gli costerà parecchi anni variati ai colleghi io credo che costerà la radiazione dall'albo perché è un reato che incide proprio sullo svolgimento della professione tutti gli altri reati comunque sono reati non leggeri la calugna e lo stalking ovviamente ogni processo porterà una condanna che può essere appunto da due anni minimo e poi potranno salire e alla fine ovviamente un difensore quando avranno tutte queste condanne gli farà un cumulo io ovviamente questi cumuli non li consentiranno non solo va bene ovviamente di avere la sospensione condizionale perché quella si ha per i due anni ma io penso che non potranno neanche ottenere la la detenzione domiciliare perché credo che supereranno i cinque anni quattro si può chiedere la detenzione domiciliare quindi scambiamo oltre poi c'è tutto il resto sì sì certo quindi insomma cominciamo comincia a essere una situazione abbastanza problematica anche perché sicuramente ci saranno altre denunce che sono state fatte nei nostri confronti indubbiamente noi procediamo per calunnia quindi è un divenire io ne sto preparando un'altra che depositerò entro la metà di giugno con tutta una serie di ulteriori accuse degli ultimi metati al 23 aprile in poi la penultima l'ho depositata il 14 aprile cioè ormai ho perso il conto cioè e quindi è tutto un continuo continuo aggiornare di fatti accuse gravissime calugne cioè di tutto adesso cioè veramente di tutto e non dimentichiamo che che a Firenze guglielmelli ha denunciato il PM che si occupava delle indagini di Sarascimmi a Genova a Genova hanno anche denunciato il PM che si sono occupati del caso alla fine è arrivato a Firenze un nuovo PM che si è diciamo stancata di questa storia e ha preso la consulenza di M Team e ha riaperto le indagini per verificare quella consulenza lì e a me ma qua finisce come a Napoli Nord rispondo a Narduini le calugne gravissime che hanno mosso il PM all'arma nel caso Cantone sono attualmente già rubricate presso la procura di Napoli Nord che ha aperto d'ufficio l'indagine a carico di Zeppellini Faraone Petirossi e tutta una serie di altri soggetti per associazione delinquere finalizzata la calugna nei confronti di PM carabiniere e quant'altro frode processuale e truffa aggravata poi la calugna ad esempio il reato di calugna è dai 2 ai 6 anni questo è un processo che partirà perché a breve vedrete che ci sarà la chiusura delle indagini nel 415 bis e poi la richiesta di invia a giudizio qui sì qui c'è già perché lì è partito direttamente il PM d'ufficio non è stata una denuncia far partire questa roba è stato il PM che una volta valutata la falsità di quello che veniva attribuito chiaramente è partito d'ufficio e ha aperto l'inchiesta a carico di questi che si sta che ha trovato riscontro rispetto all'ipotesi accusatoria e quindi stanno andando a processo qua nel senso che a breve si chiuderà l'indagine poi vedremo poi che il capo di imputazione finale quale sarà ma temo che sarà un capo di imputazione veramente bello pesante inoltre come dicevo prima la calunnia è un altro reato abbastanza pesante perché va da due anni di reclusione fino a sei quindi insomma sono tutti reati poi se mi contestano anche l'associazione diciamo si appesantisce tanto sono reati che comunque non sono non sono puniti con poco tipo la calunnia anche se becchi il minimo che becchi due anni la prima la scansi che non va in carcere la seconda non te ne ripostano da due anni te ne daranno tre e a tre anni puoi chiedere la detenzione domiciliare però poi ti si sommano ad esempio insomma questi qua di frode processuale probabilmente ce ne avranno una a Napoli una a Firenze forse anche una a Teramo non so di denunce per calunnia ne hanno parecchie io e Roberta ovviamente dopo essere state accusate falsamente e sapendoci innocenti perché lo sapevi benissimo che non c'era nessun audio né da noi né che loro avessero parlato con noi e quindi che non avessimo diffamato un bel tubo quindi come come pensate di scampare a un procedimento per calunnia non e però purtroppo ne avrete tantissimi ma ragazzi quando volevo dire un'altra cosa qualcuno si lamentava delle accuse fatte a Serena per aver mostrato i documenti voi dovete quando sentite queste cose che vi viene il dubbio perché lei ve le dice in maniera convincente dovete sempre pensare una cosa voi noi siamo in Italia ci mettiamo la faccia c'è il nostro nome e cognome abbiamo una professione e fare una cosa del genere cioè Serena Gasperini potrà anche avere amici PM come dice Zeppellini ma ci avrà un sacco di colleghi che lo aspettano al varco per vedere che fa una mossa sbagliata per dire avete visto la Gasperini che cioè nella professione forense no parla una cosa del genere gli esposti che ha fatto con gli elmelli falsi arrivano per molto meno cioè bisogna stare molto ma voi pensate veramente che l'avvocato Gasperini mostra un documento che non può mostrare e si mette a rischio di essere richiamata dall'ordine magari di essere pure sospesa e per poi vedere finalmente i titoli del giornale avete visto la sister dell'Abruzzone perché comunque volete non volete qualunque cosa fa Roberta ha una amplificazione mediatica non da poco quindi voi pensate che li vogliono tutti bene a queste donne qua assolutamente no e sapete quanti sono al barco che aspettano di vederle sbagliare per dargli addosso ci sono diventati vecchi a forza di aspettare esatto e voi pensate che noi che stiamo qua in Italia e siamo soggetti veramente è diventato più reato no guarda io penso intanto gli avevo già inviato un messaggio diretto alla Bugamelli di se è considerato che mi cita spesso e volentieri e poi parla di diritto non conoscendo e non sapendo niente e quindi l'ho invitata caldamente a non pronunciare più il mio nome e a non parlare di diritto però non sono neanche intelligenti cioè io faccio questo lavoro dal 2004 faccio esclusivamente penale può essere anche cioè è sicuramente una limitazione perché non faccio altro però vi assicuro Roberta che oltre a essere sister e oltre a essere socia ad avere lo stesso studio insieme però lei nei miei processi è consulente e quando c'è il processo a lei io sono il suo avvocato ve lo può dire lei processo dove io sono persona offesa esatto certo no no persona offesa e come quando hanno provato a a farti passare da imputata hanno pianto lacrime di sangue quindi io dico è dal 2004 che faccio questo lavoro ovviamente essendo da svariati anni accanto a Roberta essendo anche il suo legale vi potete immaginare che cosa che cosa mi possono aver tirato dietro e come siano molto attenti a quello che io faccio ecco allora io voglio dire come ti ho detto cara Bugamelli forse non ci siamo capiti che te lo ribadisco io sono una professionista seria ho studiato mi sono laureata ho avuto anche dei processi importanti li ho vinti sono una professionista stimata e sono orgogliosa anche di essere il legale di Roberta tu non sei niente non sei nessuno in confronto a me sei aria quindi non ti mettere a parlare di me non ti mettere a parlare di quello che io faccio che faccio le cose sbagliate non posso fare guarda Bugamelli a me non mi fotte nessuno forse questo è un termine che capisci quindi di quello che ti pare intanto la paghi ovviamente giudizialmente quello che fai te lo ribadisco non parlare di me e non parlare del mio lavoro e se pensi che io possa essere fottuta guarda chi potrà fottermi è ancora nascere bene dopo questa chiusura assolutamente direi condivisibile sotto questo papillo insomma condividi siete stati incredibili ragazzi è stato un vero piacere chiaramente ci aspettiamo di rivedervi presto perché perché ci saranno presto nuovi sviluppi come insomma sapete che io sono un po' preveggente come avevo previsto che dovevano venire l'educato diciamo che ora prevedo nuovi sviluppi molto molto interessanti quindi a breve direi che ci saremo sicuramente nuovamente qui ci ritroviamo ormai la nostra piazza virtuale in cui avremo modo di continuare a raccontare questa storia anzi siamo a disposizione lo diciamo sempre per tutti coloro che hanno avuto problemi con queste persone moltissimi ci hanno già contattato e stiamo dando aiuto gratuito a tutti quelli che hanno avuto purtroppo la sfortuna di imbattersi in questi soggetti per avere modo di potersi difendere nelle debite sedi mamma Giussi è con noi sotto la nostra ala si sta riprendendo sta molto meglio piano piano farà tutte le sue cose tutti i suoi passi quindi non c'è non c'è nessun problema perché molti di voi chiedono anche come sta molto meglio assolutamente molto meglio quindi insomma andiamo avanti per la nostra strada e siamo a vostra disposizione per quanto riguarda Silvia segato ho molto apprezzato il suo gesto quindi per quello che mi riguarda a me diciamo per me la questione finisce qui e mi auguro che sarà disponibile perché io intendo citarla anche come testimone perché ritengo che abbia parecchie cose anche di più di quelle che ha raccontato da dire a un magistrato per quanto riguarda la Guerrini per carità prendo atto di questa prima mail mi auguro che ci sia anche un po' un passaggio un pochino più serio perché ritengo che sia doveroso da parte tua fare un passo anche un pochino più concreto visto che insomma quello che hai detto è stato molto grave anche se apprezzo chiaramente il gesto della mail che mi hai mandato noi non manipoliamo nessuno non obblighiamo nessuno chiaramente a noi non interessa di metterci in mezzo talta altra gente cioè io capisco che qualcuno possa essere stato manipolato infarcito di cazzate se ammette il suo errore si può tranquillamente parlarne con noi non c'è nessun problema ok a me interessa Zeppellini e mi interessa la Bugamelli perché invece ritengo che loro due siano ampiamente in mala fede e che vadano fermati perché sono ancora in grado di fare del male a tanta gente non vi dimenticate che chi passava al telefono a Giussi e a Zeppellini era lei e chi sentiva Zeppellini maltrattare per ore Giussi al telefono era sempre lei quindi io non credo che questa ragazza possa essere gestita fuori da questa situazione credo che abbia lo stesso tipo di gravità la sua condotta rispetto a quella di Zeppellini e che quindi insieme vadano fermati e vada fatto in modo che debbano pagare le conseguenze per le proprie azioni spregevoli e criminali per il resto ragazzi ci aggiorneremo tanto sicuramente assisteremo a nuovi deliranti affermazioni noi andiamo avanti per la nostra strada qualunque tipo di situazione noi siamo qua va bene? qualunque veramente qualunque problema dubbio perplessità siamo a vostra disposizione Roby mi ero dimenticata di dire una cosa che ho considerato che parlavano sempre degli atti e che quindi cara Bugamelli ti volevo dire che vabbè gli atti di Alessandria sono personali i miei e di Roberta e quindi io ce li ho lo sai perché io ho gli atti di Serafini perché io sono il difensore penalista di Serafini quindi fatevi il segno della croce tu e l'amico ciao 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 e con questo vogliamo chiudere grazie da questo punto di vista perché ci state offrendo la possibilità di sventrarvi ovunque in Italia ci faremo un sacco di bei viaggetti in località era l'ultima ciliegina che volevo mettere di Serafini è diciamo sotto la nostra ala e quindi tutto quello che hai scritto ti assicuro che te ne pentirai amaramente dalla prima all'ultima riga perché sei un bugiardo patologico schifoso e meriti veramente il peggio del peggio che la vita ti possa riservare e noi faremo in modo che quel peggio del peggio ti arrivi sotto il profilo giudiziario il prima possibile bye bye